E questo weekend sarò al YCS di Bologna, ovviamente non in live, il YCS di Bologna è lo Yu-Gi Championship Series e vado a giocare il side event di GOT domani e domenica, quindi un torneo importante, ragazzi fate il tifo per me e vi aggiornerò nelle storie su Instagram. So che molti di voi magari non ne frego un cazzo di Yu-Gi-Oh, non sanno cos'è il formato GOT, ma voi fate lo stesso il tifo per me anche se non sapete cos'è. Fieric vinci mi raccomando. Ok, e seguite su Instagram che vi aggiorno su come andrà. Ora andiamo su Pandora ragazzi, grazie, grazie e buona fortuna, grazie, grazie, finirei mondiali, vinci per noi, ce la metterò tutta. E... andiamo, andiamo ragazzi. A chi posso girare una clip funny? Ma una clip di chi? Mia? Se è mia puoi postarle in chat. Le clip di Twitch si possono postare. Grazie, grazie, grazie a buona fortuna. Chi è? Ah! Attenzione, sergente in vista! Mi ha fatto molto ridere che non ci siamo parlati e ci siamo salutati. Ci siamo capiti subito! Che sinergia che c'è in questa caserma, hai visto? Sergente! Buonasera, spero vi sia pronto. Allora... Esplosioni ovunque! Prima cosa... Ho togliato il caffè, sono pronto. Hai preso il caffè? Sì. Sei sveglio? No. Aspetta che do un attimo una cosa. Un secondo, eh. Ora sono sveglio. Meno male. Hai pippato? No. Porca troia. Vabbè, non importa. Oddio! Cosa? Ma tu sei... Così, no? Eh. Ora sì. Sono così. Guarda il mio petto. Ah, sì. We, 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 we... Animal bullets! Animal bullets! Animal bullets! Bigger weapons! Bigger weapons! È movimento di anche! È movimento di anche! Perfetto. Mi spieghi perché mangi tutte le volte che ci becchiamo. No, era un dolcetto. No, era un dolcetto. Senza... Senza zucchero. Eh, quindi lo zucchero lo prendi separato. Non l'ho capito. Eh sì, sennò prendevo lo zucchero del caffè. Vabbè, sì. Capisco perfettamente. Non fa una piega. Vabbè, comunque. Dobbiamo fare una cosa molto importante, Sergente Rage. Ovvero? Dobbiamo creare una prigione. Cosa ne pensi? Dobbiamo fare una prigione. Dobbiamo fare una prigione. Tocca assolutamente farlo, sì. Siamo costretti. Costretti no. L'ha ordinato il conte. Il presidente! Presidente siamo... Fammi vedere chi c'è online. Oddio, qual è la frequenza di Berro? Non me la ricordo più. Ne ho fatte troppe. Dovrebbe essere 24. No, 24 No, no, non è 24 24 è quella dei vicini 12 mi sa Proviamo Al massimo svegliamo qualcun altro In teoria è con Sultano Ok Test Eseguito con successo Test, test, test Perfetto Grazie AtornixGamer, grazie ai sub Ragazzi, molto gentili Grazie, grazie mille Io spero che i nostri vicini ci siano stasera O sono così sfigati da non presentarsi Secondo te Probabile non si presenti Mamma mia Ti fa l'albero, l'hai fatto l'albero No, non l'ho fatto Non l'ho fatto l'anno scorso, non lo farò nemmeno quest'anno Oh no Il Grinch Ho capito Cosa vogliamo fare? La prigione, dice? Eh Ma che materiali abbiamo? Abbiamo Andesite L'Andesite E la Cobblestone Andesite e Cobblestone mi sembrano perfette per una prigione Non trovi? Era una bella prigione Sì Tanto il ferro abbiamo qua le inferiate Dov'è il Cisle? Qua da qualche parte? Io ce l'ho uno, tieni Passa qua Ok Ho diventato un quadro Allora Si potrebbe effettivamente fare con No, ho sbagliato Ok Ah, ok Intanto li ritrasformi come ti pare Ho capito Guarda un po' questi E ci sta bene come prigione Trovo con Hai usato la Cobblestone, no? Si Trovo con questi Vediamo Fa più o meno le stesse cose Più o meno Però con la texture leggermente diversa Più o meno, sì Non lo so Secondo me Vabbè Cosa ce ne frega? Tanto è essere brutta Come tutto quello che costruiamo Allora Molto bene Dove la facciamo tanto per cominciare? La prigione Dove la facciamo la prigione? Deve essere un punto molto fastidioso per i nostri vicini Lo facciamo qui Direttamente qui Si sta C'è un gold con la pistola come stato lì dentro Si Non è troppo alto quel gold Ah Non è l'albero gold Eh, lo so, lo so, lo so Dio, l'albero Eh, ma sta prendendo forma, hai visto? Allora, fammi andare a vedere Mi ha distinto di prendere un accendino Finita se facciamo il presidente Allora, aspetta Fammi vedere Ho qua sotto Guarda, sai un po' di prigione qua sotto? Guarda C'è pure l'acquietta Cioè, è un po' una prigione Old school In questo buco ci dovrebbe essere un buco che collega la piazza Ah, ok Indovina chi l'ha fatto, se non io Non l'hai fatto tu? No, no, no Ho capito C'è tutto un tunnel che conduce fino alla piazza Ah, ho capito Allora Vediamo di qua Ah, fammi sentire se qua c'è C'è frequenza 12, tipo Test Test No, non è qui Niente test Stiamo vicino a Don Berro Magari 12 davvero Ok Ti sento più piano oggi, o sbaglio? Ora mi senti Sì Cioè, anche prima ti senti Più forte Certo Più forte Ma Acqua Tutto allagato Ah, voleva riprodurre questa foto, mi sa Vabbè Vediamo, vediamo Test 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 Sì Sì Buongiorno Test Test Salve Don Berro, stavano facendo dei test L'ho sentito della parola testa, l'avevo intuito Ah sì? Lei è molto per esplicare, ce lo sa Eh, tu hai dei geni da fabbro, sa Lei è un fabbro? Sono anche questo, da un pochino di tempo, sì Non ero un più Multa per eccesso di velocità, si fermi No, ma come, no, come, no, no Lo può controllare, nei canoni E nei limiti Ah sì? Lascia vedere Sì Può misurare tipo con il, come si chiama, con l'autovelox sulla fibbia del cappello Secondo me è giusto Hai controllato, sergente? Aspetta, c'era scritto che il cavallo era passivo, in che senso? Allora Ah, è vero, Marcus è passivo Neutrale Ma che strani costumi, sì, sì Perché ti suri il braccio? Come funziona questa cosa? Eh? Perché fai finta di avere un monocolo, eh? Smetti di fare finta? Che sto facendo? Signor colonero, fare finta? Sto controllando il sospettato Sto facendo delle espressioni, cosa c'è? Annusalo! Ma cosa cazzo? Annusalo, sergente Ma... Ma adesso sono queste le... No, no, i piedini, no Oh! Oddio! No, no! Al fuoco! Al fuoco! Al fuoco! Presto, una secchiata d'acqua a casa di Berro, presto, si spegne tutto Ecco fatto No, 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 a casa di Berro, no! Vabbè, ok, grazie Don Berro, Don Berro! Sì, sì, sì Venga qua, venga qua Eccomi, eccomi, eccomi Ma come Don Berro? Noi stavamo facendo un interrogatorio a Don Berro Uuuuh, oh, perfetto Don Berro, Don Berro, su FPS Oh, no, no, no! Don Berro, una domanda Don Berro, mi dica, signor colonero Le volevo chiedere, hai detto che ho un fabbro, e cosa fabbrica? Io fabbrico armi e armature Armi? Mi piace questa parola Beh, si diceva armi bianche, ecco Non le fa anche nere? Ma questa è grigia Non le fa anche nere, per caso? Non le fa anche nere, signor Berro? Non ho mai provato a vedere se l'ossidiana funziona come materiale da costruzione, o fabbricamento, però Fa male? Venga che le faccio... Ahia Ok, fa male Due cuori Venga, 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 venga qui Vabbè, è di ferro, eh In effetti Sto cercando tipo un posto dove poter andare un attimino sottoterra per fare una prova rapida Non potevamo bucare la piazza, facciamo prima Però è devastante Poteremo bucare la piazza, però mi serve un muro orizzontale, diciamo così Ecco qua, va benissimo Se no c'erano le mura della città, ok, cosa devo fare? Allora, vede questo blocchetto qua? Lei Lo sbatta ripetutamente con il martello premendo controls Capito? Il martello fa male È utile il martello Il martello è più che altro, come vedete, è uno strumento di costruzione Ah, solo se prendo contro È solamente se prendo contro, ovviamente Martello d'oro Ok È molto interessante Quindi questo fa è questo E l'altra arma sulla quale sto lavorando è questa Che è praticamente uno spadone che come vede si addice alla sua figura da colonnello In effetti è lunga, mi piacciono le armi lunghe, sì Ecco E praticamente aumenta drasticamente l'efficacia del suo scudo Nel momento in cui lei ha uno scudo e si accovaccia e utilizza questa e si parla di uno scudo Sentirà come un rumore da oplita incazzatissimo Ok Questa cosa limita drasticamente il danno che lei prende Il knockback e la resistenza all'armatura viene aumentata drasticamente Ma quindi la spada di fatto non fa più danno No, la spada di per sé no È un congegno che permette praticamente di difendersi più L'ho detto, non è che Però mi scusi Don Berro Però mi scusi Don Berro Scarimi mi ha insegnato che se uso uno spadone non posso usare lo scudo Ah sì? Eh sì Non lo so Dovrà guardare là del manuale del perfetto combattente Non lo so Ho capito Perché il Dovah Kid era un coglione Ecco perché Lo dico io Vero Vero E basta insomma Quindi per ora così Però oggi ci saranno Oggi guarda vi dico in anteprima Che mi è arrivato un ordine Sì andiamo fuori che così mi facciano usare meglio Sì Ma guarda il chiuso l'odore rimane meglio eh Sì Che mi è arrivato Un ordine praticamente Dal mio antico maestro Fabro Mayamoto Tatazuka Yoko Poko Mayoko Va bene Lo chiamerò King Perfetto Il quale Praticamente dovrebbe mandarmi Delle armi e delle armature Che essendo di fabbricazione giapponese Sono particolarmente patenti Ma soprattutto uniche Cioè nemmeno io con tutta la mia maestria Saprei replicare una tale magnificenza Ergo Appena le metterò in vendita vi farò sapere Così magari potreste partecipare a una piccola asta Magari potremmo fare per sapere chi si la giudica Un'asta Saranno proprio armi e armature Giapponesi per l'appunto Assolutamente irreplicabili Ci saranno quelle e basta per sempre Questo è epico Nel caso foste interessati Fatemelo sapere Quindi per adesso Lei fabbrica lo spadone e il martello Lo spadone e il martello Oggi vedo se riesco Praticamente mettendomi a studiare parecchio Se posso fare altre cose E quasi sicuramente dovrebbe arrivare Adesso non so se mi arriva oggi Se mi arriva tra un po' L'ordine dal Giappone Del mio maestro Miyagi Tatatsuya Yoko Poko Mayoko Sì anche io ho fatto Un'ordine da Giappone comunque Don Berro Detto King Ah sì? Sì Sì Ah sì? Che bello Ero un entai Ah buono Eh no Eh no Non lo sai? Adesso è vietato eh Ah sì Adesso è vietato È illegale avere un entai eh Ma che schifo Specialmente Se le persone dentro Sono minorenni Hai capito? Abbasso gli entai Che schifo E io come faccio a sapere Se è minorenno un disegno eh No non hai capito Eh Scusami Sì Ha detto che Se ha fattezze Di bambina Un po' di raffreddore Signor Sergente No no Eh No no Se ha fattezze di bambina Contrario Quindi se ha Quindi se ha otto anni Malafisico da adulta Ma tutto a posto Per l'Italia O porco due A posto Ma questa cosa La trovo sbagliata Sotto molti punti di vista Ma va bene lo stesso Questo è perché Lei è un razzista Infatti Lei fa soltanto armi bianche Si vergogne Le faccia nere la prossima volta Inclusività Ci guardi Ci guardi Grazie Lei non è inclusivo Sì non sono inclusivo Va bene Ritorniamo in città va Che qua in campagna Non so che cosa potrebbe succedere Paura di noi? Non ho capito questa cosa Perché nel senso Non lo so Vuole tornare in città Si sento al sicuro? Io mi sento al sicuro Quando con me ci sono Le prodi E invincibili Forze dell'ordine In generale Non ho motivo Per avere paura di voi Perché dovrei avere paura No no Assolutamente no Anzi Lei deve essere contento Perché quando ci siamo Noi spegniamo il fuoco Oh Berro Esatto Salve signor Signor Berro Scusami ma questa spada Perché mi sembra Un po' più lunga Perché è una spada lunga Ah Bella bella È lunga Ma quanto è lunga La spada lunga Più o meno Sette monitor Sette monitor Infatti non riesco a vederla Guardate Non riesco È troppo lunga Grazie Smoky Del sub Ragazzile È grillo Grazie al sub Anche a te Complimenti a mamma È visto? Sì sì Mamma genetica Non le facciamo mai complimenti Guarda Mi infilo la forchezza nel culo Eh sì C'è chi? Ti devi chiedere Visto? Io la spada invece Hai visto? Così è? E voi cosa vi infilate nel culo? Cosa vi infilate nel culo? Eh? Un piccolo in diamante No perché anche il curvo Mi si scava a me Va Ma qui stasera l'or? L'or? Non lo so Dov'è il signor Berro? È qui È arrivato l'ordine dal Giappone Sono contentissimo Com'è l'ordine dal Giappone? Sono contento per lei Don Berro Incredibile Il maestro mi ha agita Tastuia Don Berro Al fuoco Al fuoco Al fuoco Venite tu Chiamate i pompieri Chiamate i pompieri Mi incazzo tantissimo Va bene Abbiamo risolto tutto Berro ha visto Con che velocità Meno male Che celerità incredibile Che celerità incredibile Bravissimi Che efficienza Lo so Lo so Noi vogliamo fare un attimo affari 2 Ok Va bene Ci posso anche stare Ci vediamo al tempio Ok Arrivo a cercarle Poi la Jesse Vieni al tempio Ti devo far vedere una cosa Ma devi cercare le Inksak No ce le ho in casa Ah E ti pare che vado in cerca Regi hai dei piani Stai facendo dei piani Per caso Mi hanno contattato Per sapere Una assistenza Per dei prezzi Ah ho capito Perfetto Sì avevo bisogno del sergente Un attimo Sì sì nessun problema Però sergente Dobbiamo costruire La prigione Imprigioniamo tutti i cittadini Presto E se Creassimo una cupola enorme Su tutta la città E fosse proprio quella La prigione E io non lo faccio Se vuoi farlo tu Andiamo presto Di un materiale sempre più difficile Certo Certo Ah bisogna Bisogna anche allestire i pulsanti Qua in giro Importantissimo Quella è da rifare Eh sì Eh sì Ok ragazzi Facciamo sta Comunque vi fa ridere Che non è mai finita La nostra caserma Allora Abbiamo un sacco di pattume In giro E chi è che ci viene Oh c'è un pacco Pacco Messaggio attaccato Ho lavorato Ad un primo prototipo grezzo Che sarà migliorato Con il tempo L'aggancio che L'aggancio che spari Potrebbe rimbalzare Involuntariamente Dottor Birillo Non ho capito Dottor Birillo Che cos'è Non lo so Taser Una famosissima Arma medievale Oh Il Mettiti a peco Alla sergente Testiamolo Andiamola a testare Sui civili Vabbè Ma prima vediamo Come funziona Scusami È cresciato tutto È cresciato tutto È cresciato tutto È frizzato il gioco È frizzato il gioco È esploso Ok Benissimo Era veramente potente Era veramente potente Ho come l'impressione Che questo Questo No Barking Genio Non si utilizzerà Ragazzi Ho come questa Impressione Porca troia Aspetta Andiamo su Discord Vediamo se c'è Rage Dita Rage Di venire su Discord Porca troia Ragazzi Tra i secondi Mi scrive Nova Non usarlo più Cerchiamo di capire Ragazzi Cerchiamo di capire Ha rotto La quarta parete Testando direttamente Il gioco Oh Mi hanno Elettro Shoccato Hai visto? Porca troia È esploso tutto È saltato Tutto in aria Sto riaprendo Il gioco Tra due ore Sono dentro Aspetta Un attimo solo Che devo rispondere A un tuo Un tuo follower A un gue Vai su Discord Dici a tua madre Riccio Grazie di aver detto Fieric Dice di andare su Discord Questo è un messaggio Corretto Vai su Discord Non si danno Gli ordini Essergente Con calma ragazzi Si entra Vado a far crashare tutti Come vai a far crashare tutti? Che poi non so Magari siamo crashati Solo noi Che ci siamo sparati addosso Eh ma mi sa che ci siamo Sparati addosso a vicenda Quindi Ma scusami Anche tu l'hai usato? Si Ah ne avevi uno anche te? Si Ma non l'avevo mica capito Che avevi uno anche te Si ci siamo fatti fuoco amico Aspetta Ma gli altri sono crashati? No Io li vedo tutti in line Aspetta Vado addosso a qualcuno Vediamo se gli crasha il gioco Io ho perso lo scudo Questo è un problema Mi è esploso lo scudo È fortissimo sto taser Ah io sono loggato No gli altri sono ancora tutti Siamo crashati solo noi Sì Eh appena loghi Vado un attimo al tempio Io sono già al tempio Ah ok Devo parlare un attimo col sultano Posso riprovare il te Vabbè adesso lo provo sul sultano Vediamo se Scudo è sparito Sì Cosa c'è? Sultano Sultano Ma dove sono andati? Non sono al tempio Vabbè Lo proviamo sul primo Che troviamo ragazzi Vediamo Attenzione Berro Un nemico Attento Ah Perché Sono preso Un napoletano Che cosa cazzo È successo? Ah chiedo scusa No Hai aiuto Avevo visto un nemico Hai teserato Anastasio Avevo visto un nemico Vi chiedo scusa Avevo visto un nemico In realtà ho scoperto Che è solo un pupazzo No No Mi ha rubato la pistola Come la riprendo? No Ti ho armato Alza le mani Come riprendo la pistola? Presa Ok Come hai fatto? Eh Shift destro sul manichino Per vedere l'equipaggiamento Giusto No Così no Oh Vabbè ascolta E non li tocco Sti cosi Ma Lasciamo stare Sì sono Fanno schifo Sì Fanno schifo Fanno caccare Prima comunque io e Rage Ci siamo Ci siamo fatti crashare a vicenda E siamo sparati Nello stesso momento Ecco qui signor Eberald Così è come verrebbe Siamo crashati Sì No Non la vedo Non la vede Non è che io la vedo Neanch'io la vedo Signor Non la vedo Berro Cosa stai facendo? Non vedete questa cosa qui? No No Forse ci sono dei seri problemi di laga Allora io la vedo in tutta la sua magnificenza Vedo Eberald che si sta pisciando addosso Adesso si la vedo Shift destro Fai shift destro Così si aggiorna magari Ah ok Non così Alla parte del manichino Ah ok Interessante Ma posso sapere allora No Possiamo parlare in privato per le specifiche Signor Berro Perché sono molto interessato Io non ho capito dove funzionano queste E questa qua è una Aspetti che provo a mettere quella Sì 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 Vadi 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 Ah Ho visto Ho visto così interessante Eccolo qua Adesso l'ho messa Il signor Tirlos Non l'ho fatto Così sì Come faccio Vedere anch'io Ma non bella Questa c'è Se la spada del signor Rager Ha lunga sette schermi Questa Allora Almeno dodici Adesso è interessato Dobbiamo parlare Signor Berro Dobbiamo parlare Ha un ufficio Eh no In questo momento no In realtà Ma dopo penso che Farò una Magari un piccolo evento Una piccola Perché inviterò le persone In maniera tale Che possano diciamo così Scannarsi per chi è che vuole Questo tipo di armi E di armature Perché ripeto Sono uniche Nel loro genere Peraltro Adesso queste due Che sto vedendo Sono la katana E la cosa Ma c'è anche un'altra Aspetti un secondo Sì sì certo Faccio Faccio Ecco la Nagamaki Che è un'altra arma Simile alla katana Sì Ok Sì Dove Ecco che è niente Quindi ci saranno queste tre armi E queste due armature Sostanzialmente in vedita Don Berro Io ne vorrei una ancora più lunga Se possibile Sono abbastanza corte queste Ce ne vorrei una più lunga Ma lei deve tipo Non lo so Picchiare una persona Da un edificio all'altro O come No Per quello L'uso la catapulta Ho capito appunto Ma nel senso Ci sono delle vie di mezzo Lei non Capito Una cosa ancora più lunga Ho sentito un attimo Il mio sergente Che mi chiama Scusate Ah prego Aiuterci Aiuterci Va bene signore Emeraldo Allora io guardi La viso Io le vorrei parlare Colonello Sergente Dove sei? Dove sarà finito Il colonnello Perché? Colonello Ah ma sei su Discord Sì Eh dimmi Hai risparito prima Eh sì Ero andato dal sultato Ah ok Perché di qua No io ti giuro La piazza è la cosa più orribile Mai vista Comunque Io sono mezzo bagato Anche il muovere Che cazzo è questa? C'è la banca Dove sei? Di fianco al Duraghe Dietro al tempio C'è la banca Ma che bello è vedere Un tempio antico Ma penso sia una banca Non lo so Oh Di fianco al Duraghe Sì sì Guarda C'è pure il simbolo Del soldo Book and quill Book and quill Ma anche qua Ci stanno i calabresi Che lavorano Dieci Attento a quello che hai in mano Roberto Non c'ho niente in mano Antonio Il posto fisso Non lo lascio Eh sì È il più malaticcio Ma lui non lascia il posto fisso Capito Ma quando è stata edificata Questa struttura Esattamente Eeeh Sì Vabbè Allora io comunque Ho una bellissima idea Per fare la prigione Guarda Risolviamo Ma hai testato Il taser? Sì l'ho testato Non crasha Secondo me Perché si sono sparati a vicino Che cos'è questa struttura Ancora Ma quante case Stanno uscendo A queste parti Che cos'è? C'è la prigione Ma che Com'è la prigione? Eh adesso un po' Io sarò No c'è la prigione Ma chi è che sta costrendo In sto punto? Oh Scusa ma è notte o è giorno? Perché sono degli zombie Ah no Ok Giorno adesso Vabbè Dai facciamo una prigione al volo Guarda Una bellissima idea Possiamo fare la prigione sotto Ah no Sotto il pupone Ci sta Ci sta Emerald C'è Sotto il pupone Ah da questo lato Guarda Facciamo la La prigione Aspetta e prendo un po' No ce l'ho il ferro Eh la prigione è sempre più vicina Ai nostri vicini Hai ragione Hai ragione Aspetta Make sense Allora io direi Prendo un po' di legno Cos'è che prende fuoco Un zombie? Ok Che altro vicino alla chiesa Volevo fare pure la coltivazione Così da avere le carote Le cose Sennò siamo sempre senza cibo Ho capito Facciamo una prigione tipo qui In questo punto Oppure qui Qui dà ancora più fastidio Guarda c'è un quadrato perfetto qua E tanto quanti Quanti prigionieri vuoi che facciamo? È uno alla volta infatti Allora Quattro No Ecco qua Poi Ah aspetta Sai cosa mi servivano le catene? Aspetta che faccio una crafting table Mi è venuta una bella idea Guarda Sì 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 ce l'ho Servono i nugget Per fare le chain Ok Poi facciamo Aspetta che prendo il chiesel Allora Vediamo se ce n'è qualcuno che mi ispira No aspetta aspetta Questo Ce n'è un po' carino Questo qua Guarda Voglio prendere un po' di Cobble Deep slit Ma questo sa di prigione però Sa di prigione Sì 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 Perfetto Perfetto Tocca fargli pure un violetto qua No Meglio fare le sbarre piuttosto Dici Eh sì Era per non essere ripetitivo Ciao Goldo Stiamo lavorando Goldo Stiamo lavorando Non ci fare caso Sì 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 Stiamo costruendo una prigione Goldo Per i cattivi Per proteggere le persone Ecco Che bravo ragazzo Che non si fa domande Come è giusto che sia Giusto così Non si deve far domande Allora Allora direi così Prendere il piccone Spacca tutto Ok Poi c'è la terra Ok Come lo vedi? Beh dai effettivamente Cioè alla fine Non è che deve essere bella la prigione No infatti Deve essere una prigione Deve essere una prigione Questo mi sembra Una perfetta prigione Sinceramente C'è lei Mi serve una porta di ferro Fai una scala Una scala? Scala con cosa? Sì una o due scale Con Sempre con la cobled Questa qua come Cisellata Come hai fatto questa Tipo così? No perché così facciamo Tipo le buche Vabbè ascolta No Risolviamo così Porta di ferro Tic Scusa Mi sono buttato in tempo Eh vabbè Vicenziato Niente E poi tipo sopra Oh cavolo Mi ridai un po' di Un po' di mattoni Ma perché sempre Il pattuma in giro Scusami Passi un po' di mattoni Some bricks Va bene No quest'altri qua Questi qua Ma quelli lì? Sì Vai Prendili tutti Ne servivano quattro Ma va bene Allora Che c'è i secchi qua? Ok Ok così Ma che palle Ma perché c'è Sesta merda Ma almeno Buttala dai vicini Così si fa Visto Guarda Ecco fatto A posto Nella piantagione Dei vicini Una bella piantagione Dei vicini Ci mettiamo Sto pattume qui Guarda Sopra ci facciamo Il filo spinato Guarda Ecco qua Questo è per i bisognini Bello Così Non si cagano sotto Direi Stupendo Poi Qua davanti Invece Ci faccio No Sono troppo Sono troppo costoso Non voglio E non voglio Spercare il ferro Per fare Una merda Del genere Chissene Ci mettiamo Questo Eccomi qua Il tetto Come lo vogliamo fare? Passami altre pietre Queste qua L'abbiamo finita Passami il chisel Vediamo un po' Se riusciamo A fare qualcosa Di simile In teoria Questi sono uguali Sì Uguali al pavimento Ok Ok mi serve Mi serve Di chisel Ti passo qualche ingot Thanks Il soffitto Il soffitto lo vogliamo fare Come il pavimento Perché dobbiamo anche chiudere? Eh beh Se noi vadano Se mettessi questi Sono orribili Questi sono veri San pietrini romani Vedi? Fanno effettivamente Cacare questi Sai? Perfetto Così che ci piace Ok E poi condiamo tutto Con una bella secchiata Di lava Eh Magari quello no Perché no? Guarda È perfetta Ce ne vorrebbe di più Aspetta Serverebbe un'altra Secchiata di lava Vabbè Come ce la vedi? Non capisco La secchiata di lava Ma Non disprezzo Non si può fare Il bottone Con la Serve la pietra Eh no Dico Non si può fare Con questo Era il blocchetto Così Eh no Se lo ritrasformi In cobblestone Dovrebbe funzionare Però In stone Aspetta Ecco qua Ora sì Ah Quattro Ok Ma io più che un pulsante A fare una leva Una leva Sì perché così apriamo e chiudiamo quando vogliamo Tenti pulsanti No ce l'ho ce l'ho Tranqui Beh questi pulsanti serviranno per la strada Comunque quindi Di certo non sono buttati Ovviamente dentro ci mettiamo da lei Ah no Aspetta ma non devono uscire Come ce la vedi? A me sembra accogliente Sì c'è pure il punto per cacare Perché c'è un blocco qui? Eh perché Non c'è più Non hai visto niente Va bene Va bene Eh Una torcia per non far spawnare i mob Potrebbe far comodo questa Perché non avere un compagno come prigioniero Scusa I prigionieri devono stare da soli Non devono avere un compagno Va bene Aspetta Vado a prendere un letto Ho una bella idea Grazie Ammon per il sub Molto gentile Grazie Boomeroth Twitch per il sub Lory Green Grazie al sub Il sacco Grazie al sub Molto gentili Grazie al supporto ragazzi Molto molto gentili Mi è venuta anche una bella idea Oddio ho avuto un'idea Ho avuto un'idea caro È finita Sai che quando l'idea è grave Eh Sì Ho paura Abbi paura Abbi paura Per cui ho avuto un'idea Abbi ora Sai cosa mi fa più paura? Cosa? Guardare la piazza Se tu guardi per sbaglio la piazza Laghi Sì 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 È vero Allora Intanto un bello speaker Intanto Oddio lo speaker della tortura dentro la prigione Intanto un bello speaker E poi Come ce lo vedi Tipo un dispenser Che sgancia le fumogene Per dar fastidio Ma deve essere bello nascosto Perché sennò Sì è vero Aspetta aspetta Fa il dispenser Più complesso Certo certo Adesso ci penso io Abbiamo l'Ada? Semmai mettiamo dei tappeti Per nascondere il dispenser Non lo so se ce l'abbiamo Sarò onesto Potrebbe essere utile Aspetta che completo il vialetto qua Perché Dobbiamo essere Ah poi un letto Poi dobbiamo prendere Non so se ce l'ho Vediamo se ho un letto Da qualche parte Non ho un letto Ho della lana C'ho un cazzo Non c'è nulla Ah no Letto qua Grigio Grigio pure triste Guarda Vai in pandan Con Aspetta che c'è Mene Zika sono il colonnello Dika Dika Cosa c'è? Salve salve Allora Volevo sapere una cosa Sì Alla fine era interessato Per questi due disc Perché so Che comunque A lei piace molto La musica So soprattutto Che Anche sui vicini Piace la musica Che ascolta Quindi almeno Era per capire Se l'era interessato o meno Sergente vuoi sentire Queste due Queste due Dove trex Certo Ma queste qui Non lo so Già una l'ha ascoltata Questa già l'ha ascoltata Ah sì sì Mi ricordo Questa qui la Poggio a togliere Se vuole Siamo quest'altra trex Questa Video di tierness Questa Ho capito Sì ma Gli diamo un attimo Sembra cilla Un attimo a cucinare Ok Esatto Mi dia un attimo Mi dia un attimo Vedi Sembra Chill Indubbiamente Capito Poi così È out of nowhere Proprio si è questa Questa qua è troppo Inlassante sta musica Ora un po' meno Però Eh visto visto E diciamo è così A sorpresa Sa cosa ci sarebbe bene Cosa Sì cosa Un bel Un'ora di silenzio Interrotta ogni volta Da un ognimo Che fa Quello sarebbe un'ottimo disco Quello sarebbe un'ottimo disco Secondo me Un disco lungo un'ora Un disco lungo un'ora Sarebbe ottimo Da cazzare Sottimicini No ma con quello Randomico Guardi possiamo produrlo forse Guardi Possiamo produrlo forse Allora a me sinceramente L'ultima Mi sembra un po' troppo Rilassante Non penetra i timpani Dei vicini Capito Dice l'oxiderone Già un po' di più Ecco Ho capito L'ognomo 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 Tu non lo sai Capito È proprio randomico Ah quindi Tu sei tranquillo E all'improvviso Ti Uh Ah ho capito Eh È un disturbatore automatico È un disturbatore Ok Immaginalo lì sotto Ogni tanto L'ho sentito Uh A caso Lungo un'ora E tipo Ogni tot minuti Parte un verso No è proprio casuale Possono partire più di fila È tutto randomico Ho capito Non penso Si possa rendere una traccia casuale Cioè bisogna registrarlo Totalmente casuale no Però Se vuole Con un pattern casuale Mi dica un attimo Mi dica un attimo Se vuole i suoni Che vorrebbe Che prendo nota Guardi Io lo giro subito Si se mi gira già qualcosa Forse ce l'ho già Quello dell'ognomo Forse È quello dell'ognomo Bra Bra E allora Anacardo Sai già cosa fare Basta chiamarmi Anacardo Faccio il poter letto Va bene Antonio Ok Gliel'ho Gliel'ho girato su Grazie mille Grazie mille Tutte le giornale Molto bene E È proprio un'ora Se vuole si Mi farebbe un grosso favore Ok Non c'è mai semplificherebbe Oppure può mandarmi anche in privato Qui su Su minecraft Però meglio Sul telegiornale Meglio sul telegiornale Esatto Che lo sappiamo solo noi Beh sì perché poi può combinare diversi dischi Che Allora Ma andiamo subito sul telegiornale Mandato sul telegiornale Va benissimo Va bene Va bene Va bene Mi faccia sapere A me arriverò con i due dischi A posto Bene Rispetto Rispetto A dopo A dopo A dopo Arrivederci Sargente Maresciallo Arrivederci È divertente sto cosa Quanto lo puoi fare grande Il manichino È quello È il massimo Ah ok Comunque gli ho richiesto Super Matteo Il miglior disco che esista Oh sì Ma è Ah Super Matteo Non è Super Capone Non so cosa Super Capone Eccolo qua Quella è un'altra canzone stupida No 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 Ma non è Super Matteo Mi dispiace Allora Beh ovviamente Vieni vieni Guarda Allora Eccoci qua Io direi Qua sotto O qua Il dispenser Fammi dare un'occhiata Io ci metto dentro La bomba fumogena Hai messo l'arco? Cioè vabbè Sì Sennò lo costruire È certo Allora Devo fare un Test 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 E se lo metti Che lo spara direttamente sotto Che tanto il fumo sale Ah no Lo spara Non lo attiva Maledizione Aspetta Però con le fumogene Le altre fumogene No Lo fa uscire Basta Non lo vedo uscire È perché lo aspiro Immediatamente Quindi non lo Non lo attiva No Non lo lancia No Non lo attira da me Eh lo so No non funziona No il dropper No Il dropper Dovevo spostare Il dispenser Dovevo attivarlo Capito In teoria è così Che funziona Non lo so Un po' di fumogene Un dispenser No Perché ci metto Il secchio d'acqua Fa esattamente Quello che deve fare Mi sa che non funziona E basta Perché sono Come si dice Oggetti modificati Cioè sono oggetti Moddati Capito Vabbè Sì sì Vabbè niente Speaker Che frequenza Gli mettiamo Dalla 60 Alla 68 La 60 Vai Easy Sì Sì La 60 Va bene La 69 Non possiamo Ci han detto No La 69 No Per Lore Test Test Per l'oro Perfetto Funziona A merdaviglia Test Test Funge 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 Ok Lettino Che letto Ce l'ha Basta Il cesso Ce l'abbiamo Aspetta La tutta da carcerato Per i lavori forzati Ah però serve il cuoio Noi non ce l'abbiamo Il cuoio Dovremmo chiedere I nostri vicini Che non ci sono Se c'è L'apprendista mago Dovrebbe avere Un bel po' di pelle Credo C'è l'apprendista mago Fa ridere Fa ridere ma Fa anche riflette Per avere più pelle Bisogna andare dai librai Incredibile Funziona così Chiediamo Alla rada Allora Se c'è Chiediamo Quanta ce ne serve Per fare una tuta Servono 24 No ma non vogliamo Farla tutta Basta Pantaloni Esatto Pantaloni e petto Manco le scarpe 15 Corriamo Siamo il sergente Che ha il cavallo Più lento Signori maghi Buonasera Mago qua ce ne è Manco uno Non ci sono maghi Che posto Sfigato Non mi sembra Sono capo mago Ma che è capo mago Ma va a cagare Capo mago Ma poi Che appellativi ti dai Ma non ti vergogno Ma lei è il corriere di Amazon Salve son proprio io Vuole una dimostrazione Gliela do subito Amazon le lascia un pacco sulle buche Ma se non lo lancia e non lo rompe Non vale No quello è DHL Noi appoggiamo sulla buca Ah quella è SDA Che le lancia dentro Come fossero una palla da rugby Vabbè Signor mago ma lei per Adesso Adesso sembra proprio un mago Sì È proprio un mago Senn'entrato lavoro Anche che maghi lavoro come mago Nel senso Lì è tempo libero Gioco a A candy crash Ma Signor mago per caso Lei ha della pelle da vendere Eh forse sì in realtà Quanto ne serve 15 Non c'è Non c'è il pellaio Il pellaio Il pellaio Il pellaio C'è il pellaio Ma Quale pellaio In realtà Io non vedo nessun pellaio Eh Gold Però Non so se è uno zonoshop Nel caso Però c'è Gold C'è Gold Ma è difficile Contrattare il prezzo con Gold Vabbè Per ora le do Guardi Per il momento Le do le mie Quanto 15 Le serve 15 me ne servirebbe Le ne vendo 20 per 33 diamanti Posso tirare le 33 bombe Sull'edificio Se Mi dia un altro apprezzo Possiamo 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 scendere 33 bombe Su Pandora 4 Se vuole Allora Se lei ci dà la pelle Io le faccio vedere Qualcosa di elettrizzante 30 d'oro 30 d'oro 64 d'oro 30 di pelle 64 d'oro 30 di pelle Prego Dia la pelle Vabbè Vado a prendere l'oro Intanto Ce l'hai? Come no Ce l'hai come Passa Contiamolo 1 2 3 4 5 6 7 8 Non può fare più veloce E ci tiri una sberla Con Vanno motivati Questi maghi d'oggi Vai ci tiri una sberla 26 Sembra originale E le dia un morso Vedo Se se le si stacca il dente E' oro Non lo so Questo Rolex è un po' falso Non è un Rolex Non è un Rolex Ma che cazzo Guardi che quella era Pandora 3 Conta Allora 1 2 3 4 6 6 7 16 24 Riporto 2 30 24 Riporto 2 Come fa fa 30 Boh E' stato il piacere Fa scambi con voi Perciò saranno Quei nuovi oggetti Incredibili L'Emporio Tra poco Mi spavrò Quindi A presto Le chiamerò Presto Va bene Immagino Buona giornata E non mi fate spavere L'Emporio Grazie mille Perdente Non ancora Guarda glielo Saltare Nasta Cacata L'abbiamo già fatto Già fatto Una volta Si Fanno due volte In fila Non c'è gusto No Esatto Allora noi abbiamo fatto Dalla distanza Questa volta Arriveremo dal cielo Si Assolutamente si Assolutamente si Ma lei Franzo Si è perso Il bombardamento Epico Io ho perso Tanta roba Porca miseria Il colonnello Perché purtroppo Il mio tempo È limitato Tutti noi Abbiamo il tempo Limitato È una ghigliottina Tutti noi Moriremo Proprio È un modellino Di catapulta Rispetto Sì Appena lo può Già per te Ricco Rispetto Però qua Non ho nulla Da bombardare Purtroppo No ce l'ho Cioè posso Tirare una bomba No c'è il presidente Non si può Tirare una bomba Il presidente Io la farò vedere Un'altra volta Signor Franzo E sarà Una bomba epica E sarà Catapultosamente Bello Andiamo a salutare Il presidente Abbiamo I prodotti pronti No 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 Sono serio No no Sono serio Veramente Io ho sentito Tipo È sciallo Colonnello Sono il colonnello Buonasera 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 Non so se ha visto Signor Ahmed Ma No come si chiama lei Scusi Come no Adesso si Ma sentiamo Dov'è il presidente Mi senti? Sì Adesso non sei più Dentro la scatola Oh ecco Il presidente è arrivato Il presidente è uscito Dalla scatola È uscito dalla scatola Il presidente Ha un sacco di novità Da portare nel villaggio Il presidente Rispetto Rispetto Presidente Anche noi abbiamo una novità Anche noi Spero che vi sia arrivato Oh chi è questo? È il corriere Amazon Presidente C'è il postino Come fa oggi? Ho saputo Della sua Elezione Complimenti Grazie mille Lei sarà portato Ad un Occhio di riguardo Presidente Sarà inalzato Di categoria E adesso è Capo ufficio Delle poste Grande Avrà molto lavoro Da svolgere Bene tre minuti Al giorno Sì Esattamente Rispetto ai due Che c'erano Prima al giorno È chiaro Beh Allora Grazie Ho anche fatto Delle nuove leggi Che dovranno essere rispettate Altrimenti Qui Le forze dell'ordine Prenderanno provvedimenti Assolutamente Leggi che esporrò In piazza Così che tutti Possano leggere Da un posto Soprelevato Servirebbe una balconata In effetti E il presidente E il presidente E il presidente Si è paralizzato Presidente 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 E l'ho Stavo rianimando E non ha funzionato Un attimo C'è la pioggia Grazie Adesso non portano rispetto Spostatevi Occhio Occhio Ma ce l'hanno con me Aia Spostatevi Boom Oh mi sta Mi sono quasi morto Ma che dolore Presidente Pezzo di merda Porca miseria Ragazzi Colonnello Colonnello Fermi Fermi Ma che sberle Ma tirano delle sberle Devastanti Grazie Colonnello Grazie Colonnello Bombe Presidente Presidente L'hanno sbombalato L'hanno sbombalato L'hanno sbombalato L'hanno sbombalato L'hanno sbombalato Potrei far esplodere le poste Ma lo faccio per un bene comune No dai dai prego Già ci ho messo a dodici anni Bomba Boom Strike Strike Oh oh Proteggeti Colonnello Sto caricando Occhio colonne Oh Oh no Potrei aver esploduto O fare esploduto qualcosa No Ma le pare Dov'è il presidente Dov'è il presidente Dov'è il presidente Ma è finito il presidente Presidente Chiaramente non qui Chiaramente non qui Eh ma hanno devastato l'anima Io credo Sicuramente erano gli attivisti Occhio ce ne sono altri È esploso un pezzo di piazza I cortei sono vietati Vietati i cortei All'attacco All'attacco Stanno attaccando le poste Ah ma sono Sono soltanto dei clienti scontenti Questi Eh no Erano quelle Irle se poteva far È un pochino eh Cosa è successo qua Maledizio No ma che è successo Danni collaterali Oh vabbè Scusa un pezzo di piatta Questo è un disastro È colpa degli attivisti Oddio Ma mi ricorda un po' Tocca Colpa degli attivisti Colpa degli attivisti Visto Guarda Ocicino Sono fuori Roma Sono a Roma La mia piazza Che dì Sei molto triste Che questa piazza obrobriosa Si sia distrutta Ma Rip Ma cosa ci possiamo fare Guarda qui Perché un po' di sabbia Un po' di Ma mi fai cos'è Scusa Guarda qui Brodero A posto Mamma mia Che bella Bravo presidente Bravo presidente Eppure meglio di prima Eppure meglio di prima Siamo a Roma Meno male Che Gianco c'è Portate rispetto No 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 Che se no mi tirano Statuette a Duma In faccia Sì Ti rifai i denti Qual è il problema Ho capito Avevo tutta l'armatura verde Un colpo di quel mostro Che mi ha ucciso Me l'ha mandata tutta a metà Esatto Avevo Avevo dei pantaloni Una volta di armatura Avevi dei pantaloni Ora sei nudo Ora sono mutande Presidente Dobbiamo far vedere anche lui Una cosa Che cosa Venite alla caserma Presto Tutti dietro il colonnello Seguiti la sirena Seguiti la sirena Di qua Ecco In un incredibile punto strategico Abbiamo creato La prigione Oddio Oddio Bellissimo Quando mi ha Ho chiesto di fare la prigione Non mi aspettavo Una cosa così schifosa È una prigione È una prigione È un cazzo Presidente Ma non è vero Sia sincero Effettivamente è una cella Sincero Tutti gli effetti Sinceramente Presidente Secondo lei Una prigione Deve essere bella Ecco fatto Abbiamo un primo Pogliero Non apritemi Non la provi Signor Presidente La provi No io non la devo provare Sì Mi faccio una simulazione Di arresto Arresti questo col cappello Ah solo perché C'ho la cheffia in testa Non si fermi Si fermi Si fermi subito Sono fermo Non ci credo Ora è fermo Ma come fa Trasportando Ma no Sono fermo Oddio Ti fermi In nome del Lecce Con le minacce Presidente Con le minacce Fermi Quindi se vuole prendere Non ricorda Non c'ha niente Madonna ma basta Fiserarmi Fermo Era quella la cosa importante Fermo Lei per caso Ha un modo Per velocizzare L'ottenimento Di tali Grazie per il pane Bravo Non so Non posso ottenere Effettivamente Non è ancora Aspetti Non è finito Presidente Sergente Passami la pelle La dimostrazione Non è finita Allora Step numero uno Allora Un attimo Devo Sì 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 Un attimo Fa' una cosa Allora One moment Please Allora Ok Ok Qui prima non c'era una casa col tetto Sergente serve colorante arancione E chi c'è là? Eh non lo so Presidente Giancolini Giallo con rosso magari E ha fatto costruire la banca? Giallo e rosso? Sì Da ieri Roma Giallo e rosso Ha fatto costruire sulla nostra farm di patate O rosso e bianco Rosso e bianco mi sa È stata acquistata Rosso e ossa Dove sono i miei soldi? Non c'è arrivato niente Beh Pi 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 Perché cosa è successo qua? La banca Cosa? No È stata costruita la banca Sopra la farm di patate Che momento di altissima lor Il terreno della banca Fa parte della nostra No Cioè nostro Eh sì No E come no? È stato costruito su nostra proprietà Quindi la banca è nostra La banca è dello Stato È l'emblema della ricchezza Eh mi dispiace Ci siamo diventati parte dello Stato Allora Se riuscite a conquistarla Bene Se no vi devo massacrare adesso Vabbè siamo Right now Bisogna conquistare qualcosa Sono pronto Vogliono conquistare la banca Questi signori No Ma io devo difenderla quindi Noi vogliamo solo la La nostra farm di patate Farm di patate Ne fate un'altra Ah ma noi ci abbiamo messo tanto Per fare quella farm di patate Tanto lavoro di zappa Io vi assicuro Che una zolla di terra di patate Non è una farm di patate Sì è una farm di patate Piccola ma E infatti è un'altra Fosse stata così piccola Non ci avresti costruito Una banca di sopra Esatto Ma appunto perché era piccola Che ci abbiamo edificato Una banca Che era necessaria Quindi una banca di merda È piccolissima L'hai vista da vicino? Sì perché manca La farm della nostra patate Vuole sapere una cosa È una banca di merda Ma comunque sia Ha fatto più blocchi Della tua costruzione lì Ma signor Gianconini Mi scusi Mi scusi se mi permessi Mi ha sparato il presidente Anche i fiori rossi Presidente Presidente Lungi da me D'accordo Mettere in dubbio Il suo operato E roba del genere Guardi mi metto un po' più giù Perché nessuno deve essere più alto Il presidente Non si può sopraelevare Esatto Mi inchino anche un pochettino Vabbè Dato che lei è stato effettivamente Eletto da poco O Con nostra somma Gioia e tutto quanto il resto Quando arriva rossi Diciamo così Ci sono da subito Delle cose molto impopolari Tanto che Diciamo così Il suo prestigio Non è ancora Dato che il suo amore Non è ancora Oh ma quanto parla Basta Aia Ops che lo spoglie Oh Oh Difendente il presidente Presidente Si sposa Il presidente entra in casa Chi è stato Chi è stato Ha tentato Il presidente Oh È dentro Tutto hanno rotto L'unica stato di poldo Che c'era No L'unica cosa che aveva fatto Scappi presidente Dentro Tutti dentro Nel bunker Che gli stanno spaccando Tutta l'armatura Incredibile Presidente non ha troppi amici Qui in mezzo Mi sa Non lo so Ci sono degli attentatori Forse C'è un impostore Tra noi Secondo me sì Ma che cazzo Deve essere un complice È omino ghiacciato Vai a vedere sopra Andiamo Andiamo Vado io Vado io Dove All'attacco All'attacco Come qua fuori Dove È la minaccia Un campo di grano Stelt Dove dire stelt Pare essere stelt Che cos'è Un sicuro Esatto Dice stelt Più stelt Chi è che ha fatto L'attentato al presidente Che bisogna dire Parkour È uscito Corre Dove sta Cosa sta succedendo qua Ma chi è Ma dove È in fondo Prendetelo Dov'è presidente Dov'è Che direzione Verso il vialetto Presto Si è nascosto qua dentro Adesso ti beccherà il vecchio Che tossisce Ma dove è finito È un mago Era qui È sparito Ma che è successo L'hanno rubato Alle poste È un ninja È stato spedito Dov'è finito Dov'è finito Che è tutta sta legna qua Ha spedbriggiato Per scappare Ha spedbriggiato il nano Ah ci ha fatto un puttanaio di legna Sul mio vialetto Maledissimo Vabbè se lo prendete Lo trucidiamo subito Legno o Non ci sono problemi Legno di coconut Per l'asta delle cose Ma sono qua i fiori rossi Eccoli E certo Fiori blu e fiori rossi È chiamato tutto Maresciallo Quando vuole Noi siamo pronti L'ha fatto? Già fatto Già fatto Che cosa ti doveva far vedere Con la sua nuova invenzione? La mia? Che stai guardando? Sì Ah io ho fatto la prigione Però dovevamo fare una simulazione Di arresto Eh ma perché pensavo che ci avesse Un po' Un po' Un po' Io possiedo Un tipo di oggetto Che trascinasse con forza Purtroppo no Però possiamo fare con le minacce È l'unica cosa che possiamo fare È l'unica cosa che si può fare È usare le minacce Sì Male perché i cittadini Si Si Ti ribelleranno sicuro Al voler entrare nella prigione Oddio ma che è successo qui? Eh Toccherà usare le maniere forte L'ora presidente Almeno così C'è più gusto Capito? Toccherà sì Andando a prendere una cosa Potremmo di sudare Servono altre armi Servono più armi Eh già Aspetto Da chi posso comprare del cibo? Da noi volendo Cosa vende la taverna? Abbiamo carote d'oro Mere d'oro Bistecche per ora Bistecche d'oro? Bistecche d'oro? No purtroppo No purtroppo no Maledizione Quanto costa una stack di bistecche? Dobbiamo aspettare È una stack di carote d'oro? Eh dobbiamo aspettare purtroppo Eh dobbiamo aspettare Per le bistecche? Per i nostri prezzi? Eh già Per arrivare la Lour Per arrivare la Loura capito? Per le bistecche? Anche le avessi chiesto un alcolico? Eh lo so Che dobbiamo fare qui? Allora non posso comprare cibo da voi Mi avete mentito State dicendo delle mezzogne Se vuole può acquistarlo sotto banco Posso? Va bene Quanto costa una stack di bistecche sotto banco? Andiamo Per lei poco maresciallo Venghi Ma come colonnello? Cosa fa? Cosa? Prendo il cavallo e vado a pangiare Esatto Va bene Sei invidioso? Sei invidioso? La legge sta cercando di Ti devo mettere in prigione? Capisco Io darei un colpo di taser No no ci sono già stato L'avete già chiesto prima Ops Ah ho capito Sembra che abbia un'area molto grande questo taser Ma perché è il mio momento? Perché sei napoletano Ah già Sempre quello la scusa Ah Ma ragazzi non sono Oh no c'è l'asta Oh no c'è l'asta Venite venite Soldi 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 Tocca sana Madonna Sana Sana Ma perché il mio cavallo mi è rubato? Va sempre al posto Perché se sedi e fan così cacare? Non riesco a ru... Sdraiati Parli vicino all'astra del microfono Ma perché quando siamo qua a fare queste cose da seduti siamo sempre di meno? Non ci pensate Non farti domani Non va di nuovo State tutti guardando la piazza? Bene Cazzimolo No porto due E non la vedo più Vabbè Non era importante Alzi i signori Arriva Che schifo la rana Così la ricompro la rivendo nell'Emporio E godo Presidente Mi scusi si può sputare le rane? Fammi vedere il libro delle leggi che sto per far vedere dopo L'ho letto Grazie per il vizio Molto gentile Grazie Reynolds per il sub Antoghini grazie al sub Grazie Presidente Anderson grazie al sub Vabbè Perfetto Allora signori Il microfono è dietro Il microfono è dietro Giusto scusa 5 diamanti 10 Offro 10 15 20 20 Ma possiamo vedere cosa è? Dai inizia a fare il conto a rovescio 21 22 L'asta Che durerà relativamente poco Perché ho scoperto che questo cacchio di oggetto Fa laggare un sacco È un'armatura È un'armatura Che mi è stata donata Dal mio sommo Maestro giapponese Miyagi Tatatsuya Yoko Poko Ma Yoko Ah cosa Yoko L'oggetto è questo Ok Un manichino Oddio Un cappello Un cappello Un cappello Un cappello del Shogun Dovrebbe esserci tutta quanta L'armatura è in realtà Quindi non lo so Fate qualcosa Cliccate Refresciato Che cazzo ne so io C'è tutta quanta l'armatura E come si fa? Ah eccola La vedo La vedo La vedo La vedo Adesso Mette uno skin Al manichino Che bella Evviva Scriva Junko Extreme Offro 3 diamanti Vediamo come è sul presidente Molto molto Ficca Offro 10 assi di legno E ci sarebbero i presidenti 20 di oro 15 di pelle Signor Berro la sta cucendo L'aria Signor Berro Ecco Il presidente è ancora più bello Non è il matrimonio È un'asta signor Terro Vabbè Volevo citare Volevo citare Shrek Però va bene Ho capito Può cambiare posizione Per un'altra angolazione Perché? Certo Le tolga l'accetta Per cortesia Ma quale accetta? Io non la vedo Io la vedo Ora c'è Io sì Ora la vedo La posizione è Ma non sembra molto minaccioso Così Ma non sembra minaccioso Così Non so perché tra l'altro Gli compaiono tipo In mano oggetti a caso Ma perché è il pene di fuori Comunque? Non lo so Vabbè Per il nostro Per il nostro gradimento Vabbè ma poi Inzare l'asta Per favore Qualt'è il prezzo Di partenza Full set Di questa armatura Delle cose Si parte Da una base d'asta Di 20 diamanti E perché Magna l'arma Magna l'arma Perché signor Berro E perché voi direte 20 diamanti Perché questa armatura È assolutamente Unica Irreplicabile Neanche io Con tutta quanta Ma ci dica un po' Di numeri Statistiche È una Arma Le statistiche Simili a quelle Di un'armatura Di gold Con tipo 6 o 7 6 o 7 Di armatura normale Ma c'è anche Tipo 6 o 7 Di armortoffness Che invece Quella di ferro Non ce l'ha Cioè Ci spieghi Che cosa serve Alle sberle Che vuol dire E l'altro Ai combattimenti Scusi avrei una domanda Ma è indistruttibile Oppure si rompe Se lei l'ha incianta No ovviamente È un'armatura Che non è Tipo Alla galazzia Si volesse riparare Con cosa si ripara Esatto Grazie La prossima domanda Via The Remending Volendo Sì Gli si potrebbe dare vede Ok Ascoltatemi Allora Nel caso effettivamente Dobbiamo ascoltare Nel caso Questa cosa Si dovesse rompere Danneggiare rimediabilmente C'è la garanzia Giapponese A vita Quindi nel caso Malauguratamente Un pezzo Andasse distrutto Ce ne faremmo Ridare uno nuovo Dal maestro In generale Ha detto che era irreplicabile Perché è irreplicabile Ce ne sarà solamente una Tutto quanto il tempo Non è che Se diventate Queste arrivano Io non lo so A me sembra uno scam Ma c'è solo questo Signor Berro Prego C'è solo questa No ovviamente no Perché oltre all'armatura Perché altrimenti Non sarebbe complesso Ci sono anche L'armi giapponesi Cos'è Già come Un giavellotto Un ragamaki Un ragamaki Un ragamaki Un ragamaki Esatto Un nigiri È un miracle blade Se invece tipo Ci sono persone Che preferiscono Un combattimento Più dal cavallo Diciamo Ecco Un'annaghinata Un'asta più lunga Per andare A picchiare I nemici In maniera più efficiente Nice Ottimi Però per queste qua Per queste qua Dato che Prego È tutto nel set Eh no Ci sono Sono cose Sì ma ci dica un po' di numeri Quanti danni fanno Queste armi Il Vediamo Sette Attack Damage Ma che merda Ma come Una spada Ma come Sette Poco più di una spada Sì Ma la setta Fa nove La spada Il mio martello Fa un Sì ma la setta Fa cagare Eh ma è giapponese La katana La katana Quanto fa Quanti danni fa la katana Questa spada Che metallo è È acciaio incredibile È un tipo di acciaio In particolare Solo che in Giappone Si può fare Acciaio incredibile Mi hai battuto a mano Incredibile Non lo so Deve chiedere al mio maestro giapponese Adesso mica ho il cellulare Con cosa l'ha battuto Con lo schiacciacarne Il maestro Miyagi Tatatsuya Maioco poco maioco Sti attento King King per gli amici Detto King Sì La katana Quanto danno fa Esattamente La stessa arma La stessa arma Entrambe le armi Ma allora Perché ne ha fatte due Ha detto che è per i cavalli Quell'altra Una ha un range più alto Una Ha un range più alto Da combattimento Su cavallo E l'altra Quindi attacca da più lontano Quella È molto più conveniente Io non mi metterei A fare di disquisizione In questo modo Lei insomma Vede Se le piace la piglia Se no No Non è che Ho capito Ma devo comprarla Ho bisogno di sapere qualcosa Ma perché Lei scusi Prima di prendere una macchina Ci va sopra? Sì 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 Avete ragione Da che No In realtà Non dovrebbero essere Tipo armi Particolari Arange Ma allora Cosa serve un'arma così lunga Mi scusi È bene il cavallo E da qua la sto staccando Con una spada Se la si fa Io non credo Io ce la faccio Con il mio pugno Però Ha visto Le piace Non posso lanciarlo Non lanci Vedi signor Berro Io ho le mani molto lunghe Sì Ah ecco Il tirapugne In teoria Allo stesso reggio Di una spada Allora Ma non lo so Don Berro Mi sa che Mi sa che il suo maestro È un ciarlatano In compenso Silencio In compenso La durezza La resistenza Di quest'arma È paragonabile A quella Di un'arma in diamante È duro Come la coda Di un canguro Prego È duro Come la coda Di un canguro Duro come La potenza Di mille soli Ma allora È duro Bene Quindi il set Comprende tutta l'armatura E le due armi Giusto Sì Perfetto Possiamo Con un cerco l'asta Io sapevo Per l'armatura Più un'arma Ma dato che le armi Un'arma a scelta Ecco L'altra arma Facciamo tipo Un'altra asta Separata Ok Siamo pronti Per l'asta Vada Pronti per l'asta Perfetto Vada Vada Allora Quindi allora Facciamo tipo Che l'armatura Più Un'arma a scelta Sono 25 diamanti Di 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 Adozione Ha messo pure la spada Adesso Sì Ho capito Ma erano 20 Con l'arma anche 25 Io li offro Chiaramente Anche quest'arma qua Come esattamente la spada Come esattamente la spada e tutte Le armi del genere Ti aumenta l'armora nel caso Tu avessi uno scudo Vabbè che le chiama Donna mi scusi Ma chi è che ha messo la sua fotone Sul pasqualote Non lo so Io la faccio Di Don Berro Non mi È bellissima Ci guarda sempre Non guardate quella roba Concentratemi Mi distrae Si osserva da lontano Lo stava mettendo in modalità prestazioni Perché facciamo anche FBS Ecco qua Così non si distrae Oh grazie Bello Però adesso non vedo un cazzo Di Don Berro Di due anni fa Con la stream Pensa Teo Quindi Era su Pandora 1 Non aspetta la birra Ho due diamanti Tre diamanti Quattro diamanti Cinque diamanti Ventisei Ventisette Attenzione Ventinove Ventinove Il signor Tierless Lai in fondo Trenta Ho sentito Uno Signor Gold ha detto Cinquanta Non lo so Gold ha detto Cento Gold però Purtroppo è minorenne Gu ha detto Cinquanta Vedi Ha confermato Ho sentito Ho sentito Ho sentito Il presidente Che dicesse Trenta Io ho detto Trenta Siamo ancora Trentuno Da Emerald Io ho sentito Trentatré Prima Non lo so Trentatue Ok Trentatue Trentatue Virgola uno Ok Si può fare Perché esistono Anche i nugget Le pepite Trentatue virgola due No Andiamo solamente Di diamante in diamante Se no divento deficiente Grazie Ok Trentatré Ok Non c'è un cazzo Io mi appongo Non c'è un cazzo Abbiamo già fatta la battuta Silenzio Allora Trentatré Uno Trentatré Trentatré Il presidente Trentatré Non si preoccupi Signor presidente Non gliel'attendo Trentatré Trentatré I diamanti Irreplicabile ragazzi Garanzia vita Trentanove Regis sta facendo Quello che alza Quaranta Quaranta diamanti Ragazzi Incredibile 45 Presidente Basta Lasci spendere tutti i diamanti 50 Non mandi in ruvina Le casse dello stato Quanti cazzo di diamanti avete Ragazzi Uno stack di diamanti Uno stack e mezzo Sì Non c'è la nonna 100% diamanti Ma è impazzito Uno stack e mezzo ha detto Sì Ha detto uno stack e mezzo Presidente Basta Quanti accidenti ne avete Don Berro Le do la birra Presidente In quanto suo consigliere Io le consiglierei Di darci la calvata Non rialzare due stack Non posso farmi corroborare Il signor franzo Si contenga Ma signor Non si preoccupi Hanno speso abbastanza gli altri Capito Glielo rubiamo nel caso Signor Presidente Sai Decreto legge Ce lo facciamo consegnare Nessun problema Boom Easy Iniziamo a fare la conta Uno stack e mezzo Sì Quanto siamo A posto così Signor Presidente Sono 96 diamanti Sì Sì La signora Presidente 96 diamanti e 1 96 diamanti e 2 Ha giudicato al signor sergente incredibile Bravo Bravo Ok Portiamo Ma mi scusi Ma lei ci li hai diamanti Per pagarlo Certo Dubito fortemente Ma ok Signor sergente Vado vado Signor sergente Io voglio la spada Venda il bastone di merda Ok Il bastone di merda Basta per il bastone Io offro Siente Il sergente ha Prosciugato Le casse Del Il bastone Chi è che ho Allora si parla Si da 5 diamanti Si porta per questo Io offro io Non tutti insieme Sette diamanti Ma non c'è la falce Pezzo di merda Non sai una fatta rage Tiny grazie del sub Ho sentito 7 Ha ragione No va un pezzo di merda Puuu Ma che c'è Lanciamo i famogeni Puuu Avrai un solo un arplus Di presto L'emporio Puuu Lanciamo i bengala I bengala Puuu Mi chiede L'emporio Oh oh Ragazzi Ma che state spavendo Non si sta vedendo più niente Al fuoco Io sputare la cieca Non si vede nulla Complimenti Don Berro Vorrei fare un complimenti a Don Berro Per questa armatura potentissima e unica Che adesso è stata vinta dal tenente Al sergente Al sergente Io mi dissocio da queste spese E pagherà tutto in tasca sua I fondi del presidente Non andranno mica sperperati con queste cose Ma per rinnovare la città Bravo signor presidente Bravo signor presidente Anche perché ne approfitto subito per dire Che da oggi ci sarà la moneta Dopo che è stato venduta l'armatura Giustamente Giustamente Giusto Adesso Don Berro mi deve 30 diamanti Eh No non ce l'ho Non ce l'ho Toccazzando Era una gag Non ce l'ho dei pezzi Non ci sarà la moneta Questa moneta Tutti quanti La moneta ufficiale Come si chiamerà questa moneta La potete definire come meglio volete Ma io la chiamerò molluri E quindi Signor Pietramen Amica dei pezzi di armatura Che ne avanzano perché io non io io non pago finché non li vedo un sergente ribellati eccole qua sono tutti ora è bravo quindi cittadini se la provi ma magari non è finita l'asta c'era l'altra arma in realtà è tuttavia in vita e dicono che tipo a sette diamanti siamo arrivati a sette diamanti da sì c'è un'asta anche di quella e allora continuiamo l'asta continuate l'asta regia è pagato ha rubato non riesco se avete messo a voi fa cagare questa è veramente bellissima preso non si potrà più muovere da oggi sì non si può muovere sì mi sono pentito pentiti di più vero come faccio di più di più non rubare vietatissimo rubare hai capito è vietato è vietato è vietato come preside presidente no è morto no anastasia commesso un omicidio l'ho visto ma non è vero ha commesso un omicidio non è vero quell'arma lì che ha davanti che cos'è subirà una posi una punizione esemplare sergente tenga fermo anastasia e diamanti per questa è venuto ancora più vicino perché io io sono per la legge allora subirà la punizione della riete allora no punizione dell'ariete contrattare no ecco molto si viziato o lento si viziato qualcuno vuole questa spada questo bastone siamo a 7 per le offerte siamo a 7 da emerald per la spada si un pochino 1 7 2 7 3 bravo bravo scusare in giù ma venga cosa rige sergente perfetto ma qui tu hai usato tutti i diamanti che vedi per questa no ce l'ho ancora pochi però se il mini presidente è garantita vita e replicabile colonnello e guardi che io non ce l'ho neanche sempre io ento queste cose qui tutti alla banca cosa è successo presidente presidente perché così piccolo dove ha finito qui sono qui andiamo alla banca andiamo in banca venite la banca che la banca bene tutto è bene ciò che finisce l'emblema della ricchezza colonnello questo luogo deve essere protetto non si preoccupi che nessuno entri fuori tutti così giusto diceva bisogna fare l'inaugurazione dove sono i biscottini che le ha portate e portate i biscotti nessuno un posto di berda se ne tenete sandwich per tutti inaugurazione è tornato il black's baby da presidente e questa volta non è stavolta mangiato e mangiato perché stranamente uno di so cosa vuol dire stranamente un tipo 2 di sé per la loro e la loro allora è un importantissima banca si dove voi otterrete le vostre monete convertendo delle determinate cifre che vedrete di che materiale tra poco ci dica di più hanno delle monete il momento ok da che materiale e di che materiale e lo scopriamo il funzionale sarà zinco quindi è una delle monete ama quindi un segreto una sorpresa il funzionario della banca dovrebbe arrivare qui ecco qua lei non si nuova signor sergente nel picco oltre ogni maggiore comunque è il funzionario non mi dite che è sempre lui il funzionario della banca non c'è un bancario chi lo sa è molto probabile che cosa credo io dov'è il funzionario è un calabrese si è fottuto il mio scudo a cazzi suoi scudo si è fottuto il suo scudo a me uno mi ha inculato il letto alle poste ma io ho cliccato perché vogliamo poterci interagire ma dov'è il funzionario funzionario il funzionario non funziona droppagli un diamante si trova da un scudo aia ma chi è che ho da l'altro ma chi è che ho da l'altro qua ci si sta picchiando ci si sta picchiando ci penso io allora ecco qua ecco qua ecco qua Antonio è andato in pausa pranzo ma adesso in pausa pranzo è andato il signor Antonio ah ok ecco qua nooo una banca nooo c'è già una rapina una rapina una rapina nella banca uccite fuori uccite fuori mai in alto fuori 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 chi è dov'è fuori attenzione rapina alla banca rapina alla banca la rapina non ha neppi i soldi ma lei è il colonnello dovrebbe difendere dalla rapina ma infatti lo sta difendendo eccolo l'ho trovato fermo abbiamo trovato il colpevole è lui che fuma è lui è lui fumare non si fuma qua dentro è lui tenilo fermo sergente gli farò un supplizio vai mangiamoci sto supplì vai co ma ecco chi ha io sto morendo e non c'ho spazio qua allora io non so dove sia il funzionario quindi visto che questa cosa la devo fare io ok tenilo fermo preso no la banca venga venga funzionario impression sta rompendo la banca no ha rotto tutto ha rotto tutto ripiazza ho trovato il funzionario presidente vabbè no 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 eccolo salve funzionario oh mio dio siamo pazzi e non era lui vabbè nel frattempo ne approfitterò per farvi delle nuove leggi oh le nuove leggi e qui non c'è il funzionario è il funzionario sta arrivando mamma mi è già ritardo il primo giorno di lavoro è che gliele devo dire lo licenzi ho snittato io il funzionario a quest'ora oh però le leggi ci avete dei blocchi eeeh si per i san chiesini romani grazie presidente allora le nuove leggi che dovranno essere 100% rispettate abbiamo un palco fatto apposta signor presidente eh ma lo devo appendere per favore ah deve ah chi ha messo questa porta e gli spacco la testa beh a te la testa non c'è l'hai quindi sei apposta effettivamente allora 1 2 3 4 ok è una tv? è una tv? si vede in cazzo? è una tv quattro pollici ovviamente laggerà un po' di più la... oh no no poi ti toglieranno ah ok spero soltanto che si leggano ma si dovrebbero leggere leggi che ho scritto e stipulato ieri a caso qui ci saranno errori grammaticali? evidente ecco eeeh allora leggi molto importanti e impostibili da non infrangere ok ce le elenchi e allora le più importanti... c'è il cavallo in... allora una tra le più importanti è questa qui la legge numero 7 nell'universale 2 vietato rompere il pasqualone oddio e a questo punto qui c'è una lacuna eh perchè effettivamente il pasqualone esiste? si si ma Don Berro ma Don Berro continua a dire che non è un pasqualone esatto e quindi si può rompere e quindi tecnicamente si potrebbe rompere è vero è giusto al momento che quello verrà etichettato come pasqualone allora infrangerà una legge e romperlo scacco matto poi guardi qua signor Tier c'è anche una legge molto importante qui in basso nella legge universale ma non può leggerle tutte non so tanto quelle più importanti effettivamente ah si vabbè ve le leggo tutte grazie sulle costruzioni tutte le abitazioni e i casi di proprietà devono essere dichiarate giusto molto importante per non fare abusi ed edilizi ok tutte le attività che effettano venta devono essere dichiarate quindi se qualcuno per i mercatini loschi verrà subito blizzato alla polizia vi tratta di insultare la costruzione del nuraghe penso che sia molto importante questa cosa della casa presidenziale vi tratta di non avere un vialetto di casa si ma io c'ho un cappello davanti qua ma per favore stavo già strisciando io il signore col cappello si sposti ho vietato non avere il vialetto di casa cioè uno deve sapere dove deve calpestare per arrivare a casa di qualcuno è veramente vietato usare la lana di pecore nelle costruzioni posso usare la lana di mucca? ma ragazzi io ero sicino io ero sicino perchè io vedo della lana succata su a tempo di giorni per rimediare questa cosa vado subito a fargli la mucca hai fatto di lana hai fatto di lana hai fatto di lana hai fatto di lana vabbè il suo problema verrà abbattuto ok mi piace ci pensero io è vietato avere uno scantinato dove si fanno cose losche e voi direte come faccio a sapere se faccio cose losche o meno non lo so entreremo a controllare se vi becchiamo vi facciamo il culo giusto cosa è considerato losco? questo è molto questo dipenderà dal colonnello quando farà il blitz sium potere decisionale vietato a maltrattare le pecore importantissimo vietato a sfruttare il presidente penso che lo sia ancora di più vietato a dare fuoco a picciare incendi senza permesso questo è discutibile scusi posso correggere e dirle che è a piccare non a picciare qui parliamo come mangiare la legge è scritto a picciare quindi puoi a piccare ma non puoi a picciare allora va bene perfetto ottimo cavillo legale se lei vuole fare un fuoco viene qui e chiede il permesso vuole dare fuoco a casa del pascolone ok ok va bene poi avere una foto del presidente in casa importantissimo io ce l'ho presidente per forza l'abbiamo fatta se non ce l'ha deve incombere incredibili danni tipo questa particolare è stata fatta a mano da un artista tempo fa io ce l'ho già una foto del presidente va benissimo anche quella perfetto vietato a porre resistenza delle forze dell'ordine è il presidente certo che sia abbastanza sicuro vietato a bere il colici in giro non vuoi dare i telefoni per le città o maranza dom vero si sposti con sto scudo vietato a suicidarsi come leggere ha capito dom vero non si suicidi più ma tanto io di alcolici non ne vedo dalla stagione 2 quindi non è un problema vietato a suicidarsi o esplodere molto importante vietato allestire bancarelle senza permesso rispettare le norme igieniche queste bancarelle attività vietato l'emotinale vietato a corrompere vietato a mendicare vietato a picchiare gli animali vietato a rompere il pasqualò vietato a premere i bottoni in giro vietatissimo vietato a rinchiudere gli elefanti in palle di petro cavolo questa è grave qui mi sa che aia ma chi lo farebbe mai mi chiedo io e mi sa che qualcuno la legge sono pronto a fare la multa vietato a rinchiudere gli elefanti vietato a fare pozze o stagni d'acqua senza permesso perché poi le palludie le dobbiamo modificando i cittadini devono mostrare il proprio passaporto si è richiesto dall'autorità e questo ne approfitto il fatto per dire che ci sarà il passaporto e via bello bello ottimo vietato a fare bombe o esplosivi vietato a fare bombe o esplosivi tranne per l'esercito e ma non c'è scritto vietato a importare o esportare animali senza consenso giusto il passaporto dove lo possiamo prendere il passaporto si farà alle poste ok perfetto tutti alle poste allora che almeno lì c'è qualcuno che lavora via ehm non penso proprio perfetto quando si occuperà di questa cosa signor presidente mi sono dovuto assentare un attimo per caso di forza maggiore la moneta alla fine è stata già messa a posto? e manca il consulente per la moneta il consulente quindi aspettiamo ancora non era il funzionario abbiamo una domanda importante lei considera casa sua un pascolone o no? ehm si dica si dica si dica si alla luce delle nuove leggi si è una domanda lecita questa lei vi tiene caso su un pascolone allora si ai sensi della legge normalmente vigore corrente io considero casa mia un pascolone perfetto è inattaccabile allora lei è obbligato a in a a piazzare si un attimo che c'è troppo a darcene un pezzo sta laggando oltre a darcene un pezzo lei è obbligato ad appendere un cartello con scritto benvenuti al pascolone questo è un pascolone benvenuti al pascolone benvenuti al pascolone altrimenti potrei dire che anche il nurag è un pascolone lui lo deve certificare si non ho capito scusi lei lo deve certificare che quello è un pascolone ah giustamente giustamente quindi scusi anche lei tipo un nurag dirà questo qua è un nurag in maniera tale tipo da proteggerlo quello è un nurag perché è protetto di base la casa del presidente però come può ben vedere qui si si ce la regola posta dell'universale i2 dettato a rompere il pascolone verrebbe tutelato esatto direi che si tratta ormai di come si chiama di sicurezza nazionale quasi per registrare casa sua metteremo delle cose apposta per registrare ufficialmente il pascolone sono due diamanti va bene qui ci sono le nuove leggi ma adesso quindi praticamente ogni cosa che mi riguarda costaranno diamanti fino a quando non estingue il debito delle cazze militari è vero? per adesso due diamanti per registrare il pasqualone va bene dopo dopo poi vediamo allora signor berro dopo deve pagare due diamanti a due a due a due mi raccomando aspetta che non la sento che cazzo è sto casando? cosa sta succedendo? allora posso leggere? leggi le regole oh no da capo ok tutte le abitazioni e case di proprietà devono essere dichiarate in che senso? Vicky come avevi detto che non sapevi leggere ma ci hai mentito ma come cazzo sei vestito? con uno sciogu mamma mia ha speso 100 diamanti per sto vestito meno male che non erano i miei con quale tristezza l'ha detto vabbè vabbè almeno è l'unica armatura che si può ottenere con dei diamanti questa capito? l'unica armatura in che senso dichiarare? dove devo dichiarare? dove devo dichiarare? e costa dichiarare? ma come è possibile? cosa vuol dire? allora dichiare i due diamanti grazie per dichiarare no 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 ci sarà sarà presto introdotta la moneta all'interno del villaggio ma posso andare a vivere sotto un ponte senza dichiarare? posso andare a vivere sotto un ponte però poi deve dimostrare che effettivamente vive sotto il ponte deve registrare il ponte però vado a 12 fps deve registrare il ponte altrimenti non può vivere sotto un ponte è la loro di pandora tutte le attività che effettuano 20 devono essere dichiarate no no 12 si però adesso ma adesso sono sceso a 7 ma adesso sono sceso a 7 la costruzione del nuraghe assolutamente marescia lo sembra un'altra bomba fumogena qui aspetta queste leggi sono perseguibili ho molte che possono essere saranze ma questo non fa la chiara quindi se io ho insolto la costruzione del nuraghe cosa mi succede? una sanzione posso essere arrestata? ok addirittura si vietato non avere un vialetto di casa vabbè easy ce l'ho si è veramente vietato usare la luna la lana di pecora per le costruzioni assolutamente vabbè c'è qualche problema? non credo vabbè comunque l'ho vietato avere uno scantinato dove si fanno le cose losche ma cosa vuol dire cose losche? beh le cose losche verranno come si dice the lost things decifrate dal colonnello quando farà un blitz e vedrà esatto se considero il dipartimento che si gestirà le cose illecite se considero l'osca casa sua io la arresterò e farò una multa di uno stacchi di diamanti minchia ma se c'è una cosa può essere l'osca per una persona ma magari per un'altra no ma questo la legge lo deciderà la legge sono il colonnello che deciderà cosa sarà losche cosa meno io sono la legge capisco leggi universali vietato maltrattare le pecore giusto vietato sputare il presidente vietato dare fuoco o capicciare incendi senza permesso chiaro avere una foto del presidente grazie jeppe per il sub general sanate grazie al sub anche a te gentilissimo ci vogliamo ribellare tiro fuori il taser no aspetta un attimo no in che senso il taser no 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 ahia ahia perchè a me sempre ha colpito tutti sto taser fa danno d'aria e fa danno d'aria si ma posso tenerla tipo dentro la dentro deve essere esposta ma non c'è scritto che deve essere esposta c'è scritto davvero una foto del presidente ma non è specificato dove potrei tenere dove specifico il subito allora presidente bisogna modificare la legge presto vietato pure resistenza alle parti dell'ordine chi è che ha sputato chi è che ha sputato che è stato l'uccello sei tu che hai sputato no 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 niente avviso questa roba è il trono è lui no povera pietra che c'è non vietato bere alcolici di giro e non provarci mai più ahah ok vietato suicidarsi o è spada penso sia molto chiara come legge quella si si quella si ehm ehm leggi universali 2 ci penso io vietato ad esistire bancarelle senza permesso allora rispettare le norme geniche ehm si è messo preciso come vuol dire ehm questo qui è sempre sulle bancarelle o sulle potele ci penso io beccati questo vietato a scorrompere vietato a mendicare vietato ai piccoli animali vada colonello sto scassando tutto beccati questo facciare trovarciare colonello mi sa che abbiamo perso la pietra al suo interno sta scassando la pietra in giro richiudere gli elefanti perfetto è una legge molto importante si ehm lo sto colpendo lo sto colpendo vabbè ok vietato a fare puzzo stagli d'acqua senza permesso pozzia ha distrutto tutto oddio ma ho questo legge però cioè ormai noi abbiamo un elefante dentro una palla di vetro abbiamo anche una puzza d'acqua cioè che lo devo dire? mette in regola tutto ma non c'è scritto che devo dichiarare sta roba? o devo dichiarare sta roba? mette in regola se è vietato che l'elefante sia nella palla di vetro prendete il pezzo di pietra e lo tirerò fuori è troppo lento si lo tirerò fuori l'ha preso i cittadini devono mostrare il proprio passaporte e si è richiesto eh io non ce l'ho adesso lo faremo ok vietato a fare bombe o esplosive vietato a fare bombe o esplosive ok però non c'è scritto che non è possibile far esplodere no vietato a farli però se li trovi in rilancio in teoria è bello è quello che dico io importare o esportare animali senza consenso ok e quello del vetro? non ha letto la seconda? eh sì sì devo fare delle grandi modifiche ok e deve rendere più sicure sì perché come vede ci sono delle cose non molto chiare occhioli sopra scusi scusi come adesso vado a mettere la foto a casa sua ma no ma questa e beh ma cosa ha in bocca? è un kazoo kazoo ok mi può dare il mio passaporto? scusi presidente il passaporto ancora non è pronto dong come no? ma questa cosa è legale? assoluto deve consegnare una foto scusi eh beh certo che è legale questa cosa non le va bene? no 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 va benissimo si sta si sta si sta si sta opponendo no preso ah se le posizionate in casa sua si sta scappando preso ah aia è un'esercitazione mi avete preso la rotula il colonnello si penso che Gold si è arrabbiato grazie per cosa? quindi quando avrà il passaporto? di qua è quando mi verrà dato anche a me ah ok perfetto cosa c'è? non siamo stati noi questo è il problema non siamo stati noi eh no sono bombardato eh lo so bisogna spiegarglielo alla banca alla banca quindi si lavora si lavora si lavora si lavora eh non lo so se non c'è il funzionario ti ero giù la banca per protesta ma non c'è nessuno guardi l'ha già fatto prima non credo sia un problema ah c'è c'è ti stai lamentando? no 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 perfetto ti sei lamentato guardi voglio i soldi questo quanto vale? non si non si fa così non penso che quella si deveva vendere se vuole fare il mutuo o viene l'altro giorno ma non funziona non c'è nessuno non vuole lavorare nessuno eh lo so non so perché ci sia cioè ci dovrebbe essere il funzionario ma da dove l'ha assunto sto funzionario presidente ma che cazzo ne sono? l'ho chiamato io l'ho fatto io chi è l'idiota che ha chiamato il funzionario? mi scusi ma il funzionario gioca per caso a lego fortnite? ma spero di no perché altrimenti non è costata maledirlo ma c'è sempre figura era per sapere ma io voglio vedere che cosa fa domberlo eh cosa fa? fa finta di lavorare è ricco grazie ai soldi che ha buttato rage adesso ho praticamente uno scopo nella vita adesso ha qualcosa uno solo arrivo dai si mi dia un attimo io non ho capito di essere funzionario ehi 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 festa? festa? c'è il lion Qua c'è qua sopra Qua c'è qua sopra No, questo è territorio neutrale Non... Festa Vabbè Ma che succede da sto p***o Che qui dentro? Ah, Presidente, devo dare una cosa Che cosa? Presidente, non si fidi Una trappola Una trappola Oh, finalmente Un funzionario Un funzionario Un funzionario Quello non è un funzionario Allora Tutte le porte è arrivata la cosa Finalmente Tutte le porte La banca Non ha le poste La banca Le prese La brevissima Adesso Mi scusi, signor mago Quanto viene la maschera a gas? Mettere i prezzi Dopo dopo la moneta Sarà comunque molto ragionevole Costerà davvero poco Lo spero E con lei posso garantire Ma quindi c'è il funzionario adesso Sparito Ah, è lui il funzionario? Sei il funzionario? Eh, non siete funzionari quindi Non vi faccio più domande Non te lo faccio È un po' costosa Se posso dire Eh Madonna Che cazzo la trovi? La lana rossa Ma la lana è vietata Ma ce la Io della lana rossa Ce l'avrei Ma il problema è che Ah, non si possono fare le costruzioni con la lana Dobbiamo Ma quanto si Ma infatti che queste cose Quanto la facciamo ballare Prima Perché Cosa sta succedendo Cosa sta succedendo Cosa sta succedendo Io ce l'ho il colorante se vuole Rosso Ma non abbiamo la lana Ma perché sa che la lana è rossa? Regi Fare il documento Forse ce l'hai un po' di lana Io speravo che mi arrivasse un barile Dove c'erano già I due coperti Ma era la vita che se c'è Di senso a craftarli Se tanto ne fa uno una volta sola Vado a craftarmelo subito Se mi dici la ricetta Vado a craftarmene uno E poi le due soldi Facendo fin di averlo comprato Ne ho già Dove pure comprare Ho già Ma io mi rifiuto Io c'ho una stack di lana rossa Aspetta e prendo l'oro Si lavora? Quindi Ah signor presidente Forse è arrivato il funzionario Sto raggruppando le risorse Per fare i cosi Ci sono dei funzionari Nelle poste Ha visto? Nelle poste Adesso li scopriremo subito Si Il problema è che non ho l'oro A che serve l'oro? E' per fare il libretto Non chiedimi perché Posso procurarmi dell'oro? Avrò il libretto scontato? Aspetta Forse un po' di oro ce l'ho Oh ragazzi Non sto Io non sto capendo niente Io sono Impossibile Vabbè Andiamo a fare altro Ma ho capito Vabbio C'ho la falce pure io Amuli 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 Io sto aspettando il documento Senfino Che è successo? Qualcosa è successo? Eh no Così Era vietato fare Ha premuto il bottone Si fermi Dove del lecce Ha premuto il bottone Dobbiamo arrestarlo Prendilo Ma sul cavallo Funziona È vero Si fermi immediatamente Era il mio cavallo Scemo Si fermi immediatamente Si fermi Ok Allora Fermo qui Lei ci deve seguire Perché non abbiamo modo di forzarla Quindi possiamo soltanto Minacciarla verbalmente E fisicamente Quindi adesso ci deve seguire Ti sei qua Di qua Stresciando? Altrimenti la denuncia La polizia del roleplay Venga Altrimenti ci arrabbiamo Di qua Il primo arresto? Il primo arresto? Il primissimo arresto Il primo arresto non si scorda mai Assolutamente sì Assurdo come faccia parte della Contea Sarda Si può fare il passaporto? Un secondo Attenzione! Ah ma è Goldo Non è anche un criminale Mi dispiace Di qua Di qua Venite Questo è un arresto E lui è un criminale Trasporto prigionieri Trasporto prigionieri Perfetto Perfetto Allora Uno e due Metta questi vestiti Lei è in prigione Lei in prigione Bravi Sputate sul prigioniero Dentro Perfetto Perfetto Quanto Quanto tempo Quello è il cacatoio Dell'acqua Mi raccomando Lui è debole all'acqua L'ho scordato Perfetto Lui adesso è in prigione Dovrà subire La grossa penitenza Ovvero Il fastidio del colonnello Ora mi allontanerò Ma mi sa che Forse mi allontano pure io Test 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 Spero di essere stato chiaro E' bello sofferente ha sofferto ha sofferto lo vedo sofferente sta funzionando direi perfetto se vuoi scappare scava in alto non si può vietato non in basso in alto in alto scava in alto in alto puoi scavare così puoi salvarti ah ho capito vuole rimanere mi sa attenzione lo sto intossicando e questa mi sembra una cosa una cosa un po già vista eh maltrattiamo i prigionieri sergente ma come stai vedendo mettete un po di acqua ma è vaso è vaso è vaso di prigione e ha messo pure mali blocchi ha lasciato le prove non bruciare fare il goldone va bene va bene facciamo finta di successo nulla sennò poi la gente pensa che noi siamo dei deboli tu non hai visto niente hai capito hai capito vero vero che spada lunga visto non ha visto l'altra quella che ha del mio culo vede è tornato aspetti guardi va bene puoi uscire ridami o puoi uscire i dammi vestiti nella prigionia è finita riamolo ecco qua soffre con l'acqua peccati pure una bella fumogena addio fate uscire il colonnello però vabbè ma quindi riusciamo a mettere la moneta non ho capito e non lo so stiamo andando a vedere andiamo a vedere dobbiamo buttare altri diamanti so stasera va così fede grazie al sub e grazie so se chi per il sabato molto gente c'è il funzionario un bottone quello raghe no per co2 cosa sta accadendo all'interno del nuraghe allora è spazioso con una sanzione è soltato un uraga e anche a questo punto io alla sanzione con i con i soldi subito così la moneta che non ci sono ancora quindi che cazzo faccio ma come no dove il funzionario presidente lo aspetteremo perché non finirà la stream che senso in che senso preside in che senso in che senso ragazzi ma senso presidente io la terra sta girando troppo o cazzo ecco presidente hanno rotto un pezzo del nuraghe chi è il funzionario presidente hanno l'hanno rimesso era mappa mondo vabbè vabbè niente stasera non c'è la moneta c'hanno ci hanno preso in giro torniamo a casa non c'è niente niente sanzione stasera non funziona cazzo va così il passaporto c'è l'importante non toccare il pasqualone e finché non si può pagare no non c'è manco il passaporto ok giustamente ho capito speriamo presidente se quello che penso io è l'unica scusa per il quale non si è presentato chat che il funzionario la scusa valida funzionare una rana presidente forse c'è il funzionario c'è il funzionario del lego eccolo qua ragazzi c'è il funzionario ok quindi ci dica di più ci dica quindi prego presidente venga prende i soldi prima fila vorrei solo qui c'è il funzionario allora prima ci deve spiegare perché è arrivato in ritardo a merda in contatto con il conio per darvi le monete allora potete acquistare un massimo di 10 monete d'argento al prezzo di un diamante ciascuna o 15 blocchi d'oro con ogni acquisto su gentile omaggio del presidente riceverete una moneta d'oro in maggio non ho sentito niente non ho capito bravo presidente mi sono dimenticato a me scusi che le volte dalla panchia dalla scrivania bene dicevo oggi potete acquistare 10 monete d'argento come primo acquisto e come per gentile omaggio del nostro presidente vi verrà data un'altra moneta d'oro il prezzo di ogni moneta d'argento è un diamante o 15 blocchi d'oro riga ok cazzi c'è 15 blocchi d'oro per ogni singola moneta per l'oro e perché i diamanti ne sono proprio pochi adesso quindi vabbè ho capito una moneta d'oro vale 9 monete d'argento e una moneta d'argento vale 9 monete di bronzo mi sono confuso posso prendermi l'omaggio della moneta d'oro certo quante monete d'argento vuole acquistare 0 voglio solo la moneta in omaggio pure io grazie non è possibile con 0 mettetevi in fila vado a prendere vado a prendersi ecco mi voglio la mia moneta in omaggio non è possibile con un acquisto minimo di parte una moneta se io gli adessi dare 28 lingotti d'oro quanto mi può dare 28 lingotti d'oro a bere tretti di prosciutto di votare lascio guardi che vado a prendere quanti blocchi d'oro servivano per avere 64 per averne due intanto le darò il bonus allora molto bene ma prima ha detto che non si poteva all'interno della crafting la moneta d'oro diventerà 9 monete d'argento ecco perché dove ora ho capito che poi arrivo con una stag di blocchi ma che cazzo è quella moneta quant'è grossa mi scusi con due ma il goldone è quello eh ma è obbligatorio prendere le monete cioè non possiamo vivere se la moneta è col guarda allora pensa ora l'economia ok quanto costa una moneta d'argento vale uno di diamante il passaporto quanto costa precisamente può quello lo valuterò 10 costerà qualcosa tipo argento una moneta d'argento molto bene più o meno penso di sì e perché allora non si poteva fare un diamante mi vado a prendere introdurre la moneta a anche lei dà le cose colonello ma si faccia che anzi sai che qua c'è tutto magna magna è vero io penso effettivamente colonello un po troppo penso io credo l'inflazione farò crollare il mercato e torneremo i diamanti esatto sì facciamo crollare sta banca di me ah no sbagliato scusa no no crolla la moneta non la banca ah la moneta la moneta ho 9 monete d'argento e 1 d'oro io prendo con i venga qua colonnello ho un metodo allora se noi facciamo una moneta d'argento con 15 blocchi d'oro eh i 9 andiamo più lontani che sento tutti noi usiamo 15 blocchi d'argento e prendiamo una moneta d'argento eh una moneta d'oro ce la danno gratis eh poi noi abbiamo 9 monete d'argento da riconvertire diamanti se ci pensa e qui faremo un loop infinito di soldi ma quindi possiamo riprendere diamanti da lui questo non lo so se se si può fare una falla gigante vabbè vai a prendere i blocchi d'oro prendi nel doppio così lo facciamo per entrambi sono avessi buttato 100 diamanti potevamo inflazionare tutto invece adesso ben ricco noi siamo poveri in realtà ne ho ancora un sacco tipo quanti 15 wow vabbè dai vai a prendere sta roba dai grazie blade per il sub molto gentile skylo ragazze il sub gentilissimo diamanti e non so farlo conclusioni 81 diamante una moneta 81 diamanti per uno di a quindi 10 massimo 3 sono stato 5 10 il massimo per oggi sì 9 10 molto bene queste tv unici che non guadagnate diamanti monetti in modo l'estero mi fate pagare a presenza ma me non frega un cazzo ragazzi a me non frega niente quant'è lenta allora no 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 scusi presidente però la fila lei fa le leggi però deve rispettare anche la fila è vero perché sta incappucciato questo che cazzo sei vuole derubare il passaporto sono lillo lillo è lillo salve salve quante monete vuole prenda prenda mi dia il limite quanto vi ha dato 9 diamanti ecco vabbè ragazzi sarò onesto c'è trovo genuinamente noioso vado a fare altro vado piuttosto a creare qualcosa con le mie armi c'è se devo stare qua a fargli scambi a fare economia anche no e ma tanto c'è la fila inutile che andiamo adesso dici che c'è la coda sì 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 faccio poi cioè sinceramente se lo sta lì in fila a prendere delle monete facciamo poi un'altra volta effettivamente con la barca esatto però io in genere volevo cioè io in genere gioco per non vivere quello che la burocrazia che già vivo nella vita reale la burocrazia è orribile eh sì infatti è stata introdotta qua così per capire la vita esatto vabbè e vado a craftare un po di bombe tanto solo noi possiamo farlo eh lo so vado a craftare un po di bombe infatti è giusto però non possiamo più venderle ma come no non c'è scritto che non possiamo vendere le bombe ma loro non le possono comprare ah no vabbè cazzi controlla la legge in teoria scusa scritto che non la possono creare loro eh possono comprarla sì e poi anche non non potessero comprarla chi li mette in prigione è capito benissimo sempre di essere dal lato giusto assolutamente sì vabbè vado a craftare un po di bombe raccatta della gunpowder se riesce a qualche parte e che ne so prende dai cittadini facciamo le buci mettiamo delle multe di gunpowder pagare in gunpowder mi piace come idea è un'ottima idea lo faremo ma chi se ne frega sembra che questa pandora sia molto organizzata mi sembra a sto punto cazzeggi esplorazione o altro sì guarda non lo so c'è le mo la moneta quanto c'è allora un diamante vale una moneta d'argento tu devi comprare il passaporto ma devi comprarlo con una moneta d'argento perché non puoi comprare un diamante perché perché sì perché sì è così ragazzi è così è quindi di comprarlo con la moneta non col diamante c'è la moneta vale un diamante però non puoi comprare col diamante di pagarlo una moneta è capito ragazzi perché sì se no era troppo facile invece facciamo sto step che le monete poi puoi prendere solo quando c'è il funzionario in determinati momenti della giornata è un'ottima idea sì 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 non andrà assolutamente a rallentare il server è un'ottima idea allora torniamo noi qua c'è un sacco di ciappi dovremmo sistemare anche allora facciamo così intanto buttiamo della roba che non serve a niente qua mi rimetto le mie armi ah devo fare un po' di granate fumogene tra parentesi che non ne ho più allora sarà questo il col e questa un diamante dava 100 monete almeno aveva più senso perché potrei frammentare invece un diamante una moneta quanto costa passaporto una moneta grande vabbè sti cazzi ragazzi sti cazzi non andrà a intaccare il mio content questo è poco ma sicuro allora facciamo un po' di fumogene qua così così ecco meglio di niente e poi c'è questo e poi c'è questo perché sì c'è questo perché sì ci fa piacere ah ci sta finendo oltretutto la gunpowder che non è una cosa bella purtroppo abbiamo circa uno stack e mezzo sono in vicenza e pascola nella pandora no stiamo facendo altro non penso proprio allora è inutile che fai il clown escludendo cose relative e tempisti i diamanti torna a vitale ricompi usando altri diamanti o con i soldi è inutile che fai il clown escludendo le cose relative alla vita che diamanti torna vita reale li compri usando altri diamanti o con i soldi holra cita holra cita nella vita reale la tua casa di merda te la fai tu o la fa una ditte di ile i diversi anni con dei muratori nove ore al giorno tutti i giorni compresi i cazzo di festivi che cazzo di domanda è che cazzo di domanda è nella vita reale ti crafti una spada picchiando un fottuto blocco di legno che cazzo di domanda è ma cosa c'entra cosa c'entra c'entra che stiamo videogiocando a minecraft che cazzo me ne frega di cosa si fa nella vita reale allora ammettiamo che tu devi su minecraft devi pure bere mangiare dormire pisciare cagare perché la vita reale si fa così che cazzo vuol dire ma che vuol dire ma che discorso è nella vita reale funziona così e quindi su minecraft all'alloggio no su minecraft io gioco un videogioco ah vabbè ma sei un pagliaccio dai facciamo così facciamo prima mi usciva anche utente sospetto di ban probabilmente si sarà già beccato di timeout avrà già rotto il cazzo avrà già avrà rotto il cazzo già ai ai mods vabbè ecco risolto risolto il problema ragazzi grazie checo per il sub grazie mille brother e mettiamo via anche i minerali poi blocchi d'oro poi ci passerò dopo se non voglio ok ok ha staccato incredibile una bella mod di minecraft dove si pisce e caga si no ma adesso parlo magari faccio un mini discorso questa cosa qua cioè io almeno personalmente vabbè lui era chiaramente un troll e voleva soltanto dare fastidio però facciamo un discorso ci sono molti giochi che a me almeno molte cose a me non piacciono perché nella vita reale perché voglio riprendere cose della vita reale no avete presente tipo gta tipo vita reale devi già gtr più un po' al limite tipo a me non piacciono queste cose perché io vi gioco gioco vi do gioco per staccarmi a vita reale non voglio che vi do gioco sia sia a lavorare arresti o cazzo tocca andare andiamo ad arrestare presto si torna con la sirena come vecchi tempi questo attenzione e attenzione pickpockets cosa sta succedendo qui non so dove sono in piazza qui eccoli ecco mi levo dai coglioni eccomi cosa è successo qua la signora ha sputato addosso la mia statua ha bruciato la mia immagine cosa però mi scusi posso dire una cosa da prima di essere impaginato o paga una sanzione o viene sbattuta in galera no mi scusi allora però sulle regole lì c'è scritto che non posso sputare addosso al presidente e allora perché è bruciato la mia immagine è su una statua l'immagine non è se stesso se no ogni persona che c'è la foto di gesù cristo c'è gesù cristo in casa effettivamente un po' è vero tecnicamente è così proprio per l'immagine beh l'immagine mi scusi è un po iconoclasta ma non è vilipendio cioè non è sacrilegio ecco si la smetta di tirare fuori il vocabolario si era come una persona normale se l'hai il documento si certo guardi e me lo faccio vedere prego si non è convalidato però come non è convalidato non è convalidato ma io l'ho appena comprato non è colpa mia aiuto soltanto il presidente può convalidarlo è vero che c'è convalidato guardi ma come tasto destro ma perchè c'è stato non è anche un documento scusi signor gianco si calma signor gianco guardi che mi ha detto il suo passaporto è appunto per farti vedere che era convalidato era convalidato ah il mio lo può convalidare hai appena scontato la mia foto e l'hai bruciata ha la statua e allora perchè hai bruciato la mia foto la picchiata presidente ha picchiato una statua la picchiata mi scusi ma è che c'è un momento a dislivello che mi prema un po' andiamo allora poi che cos'è questo genere che cos'è in albero vado a fare il passaporto si ciao colbino io non sono i coltelli oh ma quanti cazzo di versi ci sono in sta serie ma che cazzo è uno zoo è impossibile non avere versi scusate è impossibile no no ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah madonna santa for cazzo è sembra essere un zoo allora puoi ridarmi per favore il mio passaporto il passaporto il mio passaporto le lo do soltanto se lei si comporta bene certo ma io mi mi comporto sempre bene allora chi ti scusa niente eeeh cazzo è un po' sporco un ca... chi ha sputtato ma colonnello l'ha sputtato cosa devo fare, cosa devo fare la sbatta in galera almeno un po' che deve capire subito qui assolutamente si ma dove viene scritto, c'è la mia pedina penale adesso è sporca è troppo trasgredita raga ma il goldokerato si è bellissimo però scusate lei deve seguirci, le stiamo puntando una pistola addosso ok no ho sequestrato veloce ho la pistola in mano oh mio dio quando avrei subito la redenzione allora avrei il passaporto sergente vai a metterle in prigione vado a prendere i vestiti dei prigionieri presidente beh la mette in prigione porca tera ragazzi posso dire che mentre sei lì che parla a sentire brah gu gu brah brah gu porca puttana va bene che va bene che la soundboard però cioè che cazzo è in tasca i vestiti no no non li avevo ora li ho messi qua perché devo farci sapete aspettate devo mettere no questa li mettiamo qua i vestiti ecco qua la nostra ecco qua la nostra orribile prigione oh mio dio prego indossi i vestiti puzzolenti che ha indossato prima un'altra persona noi non li laviamo ovviamente tutte le detenute eh certo presto presto perfetto e adesso la tortura del colonnello mi allontano test test ok mi sembra abbastanza sofferente ha sofferto abbastanza posso uscire mi sembra di sì ti sei pentita delle tue azioni eh sì secondo me no attenzione mi scusi ma i vestiti costano i vestiti i vestiti si danneggiano eh a porre di sì si toglie i vestiti ma sono come scusi non ho capito scusi i vestiti da carterato mi sembra giusto così dove li metto mi scusi ritenga la più no 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 con che cattiveria adesso ha capito per chi ha a che fare non deve sgarrare ha una crisi epilettica ci penso io no no presidente ho un'idea presidente sì ecco qua un colpo di balestra vai vuole avere lei l'onore no no lei non mi può si metta subito lì no 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 non credo non mi può prendere sono in un angolo cosa vada vada molto bene questo ha fatto male adesso rispetti le regole io le approvo il documento ok cosa faccio presidente io le ho provato il documento ok questo è chiaro però ha vistovi signorina con le buone si ottiene tutto sono molto gentile siamo molto gentili oggi sono molto gentile lei è molto umano si cavolo meno male che c'è lei presidente mi piace questo atteggiamento ecco qui il suo documento convalidato ok ma mi scusi la mia fedina penale è sporca adesso attualmente no sono molto magnanimo che cuore grazie sono libero sta facendo molto rumore se solo ci fossero i vicini io ho convertito i soldi vado a fare il documento per lei o vuole vedere con me vengo anch'io dai ma a noi non serve il documento noi siamo eh ma serve a tutti in realtà eh perché marcus è nella piantagione che marcus piace c'aveva fame evidentemente signor franze eccoci siamo qui per il documento siamo raccomandati sì 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 lì da puzzi puzzi di merda che devo dire sì no franze se non avessi ottenuto delle monete oggi come potrei comprarlo eh non lo compra allora ce l'ho che lo io vabbè se veramente schiavo del capitalismo comunque lasciatelo dire chi io sì allora chi facciamo prima prima il sergente prima il sergente perfetto il sergente nome visualizzato sul documento cosa mettiamo semplicemente Raijz sì con 3s basta senza fare 11 non ho bisogno il tuo nome Mojang ma serve pure quello eh sì per un fattore di schiena sul documento Raijz con 11s 11 sì stelt tutto minuscolo equilibrio non posso saltare sui calabresi 8,9,10 11 sto cazzo si identifica maschio femmina o altro signor sergente Raijz mi identifico in una brioche altro quindi grazie mille grazie mille lei il colonnello eccoci qua prego grazie mille signor colonnello che nome vuole visualizzato sul documento colonnello ma no abbiamo bisogno va bene fieri va bene fieri di minecraft spero che sia fieri che altrimenti non lo so sì sì è fieri grazie va bene va bene lo sa lui maschio femmina o altro come sesso come si identifica colonnello io in una catapulta altro quindi era proprio fieri meno male che culo grazie mille va bene inutile che ve lo dica tanto non penso che vi multerete da soli basta ma noi già valide tutto dovete semplicemente tenerlo sempre con voi riponetelo nello zaino eccetera 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 lo metto insieme alle bombe è giusto così perfetto grazie mille franzo un lavoro bene eccolo la gente non è che si vuoi per caso la spada che spada quale spada la farmatroce la farmatroce no mi spiace però chi è stato lo arresteremo presidente si guardiamo la documentazione datemi tutti i documenti prego perché c'è amending eh lo capiamo che valida la presidenza i documenti come li valida soltanto il presidente può ma dov'è la scusami questo non me l'avevano detto or che miseria è valido vedi c'è il pollice guarda adesso che convalidato c'è il pollice ma questa cosa è meravigliosa è meravigliosa incredibile che passi avanti con la tecnologia e non lo tirerò mai più fuori perché sono io a controllarli allora bene ma questo è meraviglioso adesso voglio vedere cosa vende Don Bear questo è il mio amico non ha fatto abbastanza soldi oggi Don Bear aspettaci ci penso io sentiremo un suono strambo sono un cliente al fuoco al fuoco al fuoco al fuoco al fuoco ok ok ce l'abbiamo fatta uff che rischio che rischio ok ma cos'è sto trenino qua si abbiamo sa ah ecco perché cazzo mi vanno via le cose ma cos'è la conga qua ma che sto suono ma questa disturba la quinta pubblica presidente disturba la quinta pubblica questo altrimenti l'avresti impronta già un sette volte ok ho visto test test posso vedere il martello prego prego per il martello aspettiamo che provo a farle vedere una cosa un attimo aspetti ce l'ho io se vuole quello che vuole farvi vedere questo quell'acqua si sono spostati ok eh però bisogna aspetti aspetti un attimo un attimo un attimo un attimo se non sbaglio ok ecco picchia il centro accomacciandosi ma con il test sono io che mi inculo tierless ecco fatto picchi normalmente rompa normalmente con il martello come fa però il tasto centrale mentre si accovaccia contro e voilà è bellissimo è uno strumento di lavoro il martellone mi piace ok però è un po' lento a scavare la pietra anche se distrugge eh sì e io che cazzo è successo tutto bene presidente va bene sono qui sono qui ma come se ma che copia incredibile cosa è successo ma sono tutti uguali qua che cosa è successo ma perché tier è imposta tipo da fico ma sembra un cartino non lo so non lo so io avevo messo le cose però con le secchiette d'acqua i manichini si spostano ma stanno andando a fuoco la struttura ma i manichini mi piace cambiare aspetta che porta un po' il presidente fuori ecco qua è la madonna ma quello è il martello che fa un casino ah giusto sì tra l'altro il martello se ci sono delle entità nemiche premendo destro le scaccia via oddio ma è utilissimo allora questo martello quanto costa? però è molto dispendioso per quanto riguarda i materiali dipende anche da che materiale lo vuole è vero quanto costa? e sono vabbè i materiali da costruzione sono 11 di ferro se lo vuole fare di ferro e se no 11 di diamante se lo vuole fare di diamante e poi la marcella sua lo costruisco io perché ho le skill da fabbro capito e per l'arma di per sé sono tipo 3 diamanti quindi sono 14 diamanti in totale se lei vuole fare il martello di diamante ha picchiato la statua il martello prima non faceva tutto questo casino io non so cosa è successo allora ho capito io sono 11 diamanti per fare la costruzione giusto? e 3 monete d'argento per il pagamento esatto ok ok quindi costa un totale di 3 monete d'argento e 11 diamanti perché e 11 diamanti per fabbricarlo purtroppo i diamanti sono proprio insetti nella costruzione quindi non posso prescindere cioè volendo posso dare non so se cioè più che altro non so se alla banca si possono riconvertire le monete in diamanti questo non lo so nel qualche altro io praticamente andrei effettivamente con tutte quante le monete d'argento per rifare le cose ma in teoria si che si possono riconvertire scusami prego a senti sparirebbero i materiali allora adesso un attimino che vi spiego perché questo è un po' un disastro oh vabbè ragazzi ehm si oggi live un po' così ragazzi mi dispiace eh purtroppo pandora a volte ci escono anche ste giornate prossima volta magari vedo di fare una farm una bella farm di creeper potrebbe essere interessante così ci facciamo come si dice ci facciamo gunpowder infinite e le bombe tanto cioè se le live devono essere così piuttosto ne faccio una farm detta sinceramente vabbè è andata così va bene oggi stacco prima tanto non c'è non c'è nulla da fare sinceramente abbiamo fatto un documento totalmente inutile abbiamo fatto abbiamo interrotto il sistema monetario totalmente inutile sono dei zoom vabbè dai per lunedì tiro fuori qualcosa di più interessante magari mi invento qualcosa io per non essere dipendente da da quello che accade nel server dai ragazzi buonanotte a tutti e vado a cacciare un ride vado a cacciare un ride non vai avanti con la caserma e che devo fare no sti cazzi a caserma sinceramente cioè è già brutta così non ho voglia di costruire cacciare da rager ragazzi buonanotte a tutti scappo sono un po' stanco oggi allora domani non sarò in live perché come ho già detto ci sarà il ci sarà il torneo di Yu-Gi-Oh sono al YSS di Bologna quindi non sarò in live e domenica invece penso che ci sarò dipende anche lì perché ci sarà la YSS anche domenica però magari di sera riesco a fare la live non lo so in caso ci becchiamo domenica sera o lunedì va bene ciao belli grazie per essere in live ride a rage andate a salutarlo